Ogni settimana pubblichiamo nuovi audiolibri. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e condividi il nostro canale con i tuoi amici. Introduzione Ci sono persone che amano prendere il caffè tutte le mattine e cominciare alla grande la loro giornata. Altre persone, invece, preferiscono rimanere a letto fino a tardi ed essere più operative nel pomeriggio. C'è chi ha una morning routine per il volto, chi fa yoga prima di andare a dormire, ma anche chi fuma, chi beve e chi va a dormire a notte fonda. Le nostre abitudini possono definire chi siamo, come ci sentiamo, come ci relazioniamo con gli altri e persino se saremo delle persone fallimentari o di successo. Per comprendere la portata della forza che un'abitudine ha sulla nostra vita, basti pensare che 30 minuti di attività fisica tutte le mattine possono far diminuire drasticamente la possibilità di incappare in malattie cardiache o circolatorie. Mentre è stato calcolato che una singola sigaretta fa accorciare la vita di una persona di 11 minuti. Questo significa che un fumatore ha una prospettiva di vita più bassa rispetto a una persona che non fuma. Ancora un altro studio del 2011 ha dimostrato che fumare anche solo una sigaretta al giorno predispone a complicazioni mediche abbastanza serie. Infatti, chi fuma anche solo una sigaretta al giorno ha una possibilità di morire del 64% più alta rispetto a chi non ha mai fumato. Insomma, anche le abitudini più piccole possono cambiare drasticamente il modo in cui affrontiamo la vita di tutti i giorni, influendo sul nostro umore e sulla nostra forma fisica, anche se non sono relazionate necessariamente con la dieta o l'attività fisica. Per esempio, chi va a letto presto è propenso a essere più grasso di chi va a letto tardi. Invece è scientificamente provato che chi ha l'abitudine di fare colazione tutte le mattine ingrassa meno di chi non lo fa e ha meno possibilità di sviluppare patologie glicemiche come il diabete o i picchi di zucchero nel sangue. Il problema delle abitudini è che esse spesso sono difficili da estirpare quando sono negative e difficili da creare quando sono positive. Nella maggior parte dei casi, infatti, bisogna essere in grado di spezzare un circolo vizioso e instaurare un circolo virtuoso. Come vedremo in seguito, il motivo di questa difficoltà è da imputarsi a cause mentali e psicologiche quanto a cause biologiche e chimiche. Infatti, gli studi neuroscientifici sul cervello hanno offerto negli ultimi anni una comprensione maggiore del modo in cui le abitudini si formano e si fissano nel nostro cervello. Questa prospettiva biochimica offre uno spaccato interessante per la comprensione della formazione delle abitudini a tutto tondo. In effetti, una delle complicazioni maggiori che bisogna affrontare quando si vogliono cambiare le proprie abitudini è in primo luogo capire quali siano. Spesso, infatti, siamo in grado di riconoscere il sintomo ma non la causa. Per esempio, se il nostro problema è l'insonnia, ci sarà bisogno di rintracciare, anche con l'aiuto di un esperto, quali sono le cause che ci spingono ad avere difficoltà con il sonno. Solo in questo modo si potrà avere un'idea completa delle nostre abitudini negative e del modo in cui esse influiscono sulla nostra salute psichica e mentale. Spesso, dunque, tra l'abitudine e il risultato, possono intercorrere anche mesi, perché le abitudini sono appunto azioni che si ripetono nel tempo con una frequenza regolare. Una volta rintracciate le abitudini negative, vedremo com'è possibile cambiarle, seguendo diversi metodi. Per questo, alla fine di questo libro, proporremo tre metodi interessanti che funzionano nella maggior parte dei casi. Il primo metodo è quello dei 40 giorni. È stato provato che bastano 40 giorni per abituarci a una nuova abitudine. Vedremo quali sono i consigli principali per far sì che ciò accada. Il secondo metodo consiste nel tenere traccia del proprio progresso. A tale scopo, proporremo il metodo del diario. Le annotazioni aiutano a capire in che direzione le nostre abitudini stanno andando e permettono di visualizzare il progresso nel corso del tempo. In breve, permettono una consapevolezza maggiore del proprio percorso, offrendo anche una certa dose di gratificazione. Proprio alla consapevolezza è rivolta alla mindfulness, l'ultimo metodo proposto. In realtà non è proprio un metodo sistematico, ma è da intendersi più come un contorno che deve essere presente per far sì che le nostre abitudini siano prese in considerazione in modo consapevole e presente. La filosofia di base della mindfulness presuppone che la consapevolezza sola ci permette di lasciare tutto ciò che non è necessario e salutare, ma allo stesso tempo di costruire abitudini sane e necessarie con risvolti positivi per la salute totale di mente e corpo. Insomma, costruire un'abitudine non è affatto semplice, né lo è abbandonare le abitudini negative, specie quando esse fanno parte della nostra vita da lungo tempo, Quello che riguarda le abitudini è un percorso e come tale va intrapreso, con la consapevolezza di poterne uscire migliori. Di certo non sarà un percorso lineare, ci saranno alti e bassi, momenti di entusiasmo e momenti in cui si vorrà mollare la presa. Ci si deve ricordare che già il fatto di aver deciso di voler cambiare le proprie abitudini significa aver fatto un passo in più verso la crescita interiore. I migliori risultati verranno con la costanza e la perseveranza. Come le abitudini influiscono sulla vita di tutti i giorni Benissimo! Hai deciso che vuoi cambiare la tua vita e hai scelto questo libro per capire come disfarti delle tue cattive abitudini, magari costruendone delle altre più salutari. Complimenti! Questo è già un passo in più sulla strada del miglioramento personale. Per prima cosa, ancor prima di pensare alle conseguenze che le abitudini possono avere sulla nostra vita, occorre definire una volta per tutte cosa si intende con la parola abitudine. Questo termine deriva dal latino habitus, che significa abito o vestito. Allo stesso tempo si collega al concetto di abitare, di stare a casa, di sentirsi a proprio agio. Da definizione, l'abitudine è un comportamento che si ha la tendenza di ripetere nel corso del tempo, con cadenza regolare. Le abitudini possono essere sia coscienti che incoscienti. Nella maggior parte dei casi, per un gran numero di persone, le abitudini non sono coscienti, nel senso che con il passare del tempo, questi comportamenti diventano delle azioni automatiche, che sembrano naturali. Per questo motivo, spesso non si presta a loro la dovuta attenzione. Si tratta molto spesso di gesti spontanei, che a prima occhiata non sembrano avere una grossa ripercussione sulla nostra vita e sulla nostra salute psichica e fisica. Non è un caso se la maggior parte delle azioni che compiamo durante la vita quotidiana, infatti, non sono dettate da un atteggiamento ragionato o da un'analisi dettagliata, ma dalla cosiddetta forza d'abitudine. Non ci riferiamo alle grandi azioni o le decisioni radicali. Sicuramente in quel caso la mente cosciente è coinvolta in modo più effettivo. Ci riferiamo ai piccoli gesti, come fare il caffè la mattina, mangiare la frutta dopo i pasti, bere un bicchiere di vino al giorno, camminare per andare al lavoro o stare davanti alla televisione per molto tempo la sera. Si tratta di piccoli gesti che svolgiamo perché abbiamo sempre fatto così, oppure perché ne traiamo piacere e ci fanno sentire a casa. Sono semplici rituali che ci aiutano a farci sentire a nostro agio, anche nel caso di quei gesti che con il tempo portano con sé una serie di conseguenze catastrofiche per il nostro organismo e la nostra psiche. Sono proprio questi piccoli gesti quotidiani, ai quali solitamente non si presta particolare attenzione, a trasformarsi con il tempo in abitudini. Questo avviene, come vedremo più avanti, perché li si svolge in modo del tutto automatico, vale a dire senza pensarci in modo attento e consapevole. È come se la ripetizione di tali azioni le facesse cristallizzare nella nostra memoria, fatto che, come vedremo, è anche stato dimostrato dalle neuroscienze. I gesti che abbiamo menzionato non rappresentano di per sé un problema e possono anche trasformarsi in abitudini. Non tutte le abitudini sono negative. Ve ne sono alcune in grado di portare giovamento alla nostra vita, come fare attività fisica, mangiare in modo sano oppure camminare regolarmente in mezzo alla natura. Il problema sussiste invece quando un piccolo gesto quotidiano, a prima occhiata innocuo, si trasforma in abitudine e a lungo termine finisce con l'avere delle ripercussioni serie e nocive sulla nostra vita. Si tratta di conseguenze più o meno gravi che, come una cassa di risonanza, vanno a influenzare la nostra salute fisica, il nostro benessere mentale, fintanto anche il modo che abbiamo di relazionarci con gli altri e con il mondo esterno. Proprio perché questi gesti sembrano piccoli e inoffensivi se presi singolarmente, è difficile prestar loro attenzione, e in alcuni casi addirittura anche accorgersi della loro esistenza. Altri gesti invece sono più evidenti e viene loro associata immediatamente una connotazione positiva o negativa. Il classico esempio che possiamo citare in questo caso riguarda chi è dipendente dal fumo di sigaretta. Il gesto di fumare una sigaretta è piccolo e occupa poco tempo, ma è immediatamente associato con tutte le conseguenze negative che il fumo di tabacco comporta, a causa della giusta campagna informativa che è stata messa in atto contro il tabagismo nel corso degli ultimi decenni. Un fumatore incallito sa che ha una cattiva abitudine, ed è perfettamente consapevole del fatto che smettendo di fumare avrà tutta una serie di conseguenze positive che potrà rintracciare in diversi aspetti della sua vita. Sarà più sano, si sentirà più libero, non soffrirà più di attacchi di tosse e alitosi e infine avrà la possibilità di mettere da parte del denaro e di spenderlo in attività più gratificanti. D'altro canto, alcune abitudini negative di tutti i giorni sembrano di per sé inoffensive, ma è importante riconoscerle per rintracciarle come cause di tutti i sintomi collaterali che ne derivano. Per esempio, se il signor Rossi ha l'abitudine di mangiare la pasta per cena, a meno che questo fatto non sia affatto notare da un nutrizionista o causi dei problemi che siano a esso direttamente riconducibili, difficilmente rintraccerà questa consuetudine come abitudine. Il signor Rossi, allora, potrà presentare un senso di affaticamento, una difficoltà a prendere sonno o addirittura un senso di nausea al mattino che per lui saranno difficili da spiegare e comprendere. Probabilmente prenderà medicinali e berrà tisane contro l'appesantimento, ma non serviranno a nulla se non avrà rintracciato il fatto di mangiare la pasta dopo una certa ora come la causa scatenante di tutto il suo malessere. Per questo motivo, al fine di rintracciare quelle che sono le cattive abitudini che influiscono sulla nostra vita, è importante concentrarci su quelle che sono le strette correlazioni tra causa ed effetto. Ad esempio, nel caso del signor Rossi, ci si dovrebbe concentrare in primo luogo sulla conseguenza negativa, cioè il fatto che la mattina lui si senta appesantito. Dopo aver rintracciato questo effetto, il signor Rossi, anche con l'aiuto di un professionista, potrà ricondurlo alla causa che l'ha scaturito. In questo caso, la causa del malessere del signor Rossi è il fatto di mangiare la pasta per cena. A questo punto, il signor Rossi riconoscerà questa sua predilezione per quello che è, cioè un'abitudine negativa, e si impegnerà a sostituire questo pasto con qualcosa di più adatto, come una fettina di carne con contorno di verdure o un'insalata mista. In poche parole, riconoscere le abitudini in quanto tali e notare quanto esse siano negative per il nostro organismo e per la nostra vita di tutti i giorni è il primo modo che abbiamo per cambiarle e cambiarci in meglio. Le abitudini, infatti, essendo dei comportamenti che si ripetono nel tempo, infliggono alla nostra vita delle micromodificazioni che spesso vengono sottovalutate o tralasciate, ma che a lungo andare possono trasformarsi in problemi seri. Si tratta di una modificazione lenta e costante, i cui effetti vengono spesso tralasciati fino a quando si acuiscono, provocando delle gravi complicazioni. Prendiamo ancora una volta come esempio il caso del fumatore. Come conseguenza immediata, il fumo della sigaretta causa poco più che un banale senso di fastidio alla gola e alle vie respiratorie, oltre che un alito non esattamente fresco. Tuttavia, a lungo andare, è ormai noto a tutti che il fumo della sigaretta può avere conseguenze ben più serie del semplice fastidio, incluso l'insorgere di malattie respiratorie serie, dipendenza psicologica cronica e patologie più gravi come il cancro ai polmoni, infarto o ictus. Al giorno d'oggi questo può apparire scontato, ma basti pensare che solo fino alla metà del Novecento il fumo della sigaretta era considerato un rimedio naturale per sbloccare le vie aeree ed era consigliato addirittura dai medici. Questo vuol dire che, a meno che non si sia informati, è difficile vedere le connessioni tra causa ed effetto quando si parla di abitudini. Per non pensare al fatto che spesso intercorre un arco di tempo significativo tra uno e l'altro e solo una diagnosi attenta può condurci a capire quali siano effettivamente le abitudini negative che vanno modificate al più presto. In questo capitolo ci concentreremo su quelle che sono le conseguenze che le cattive abitudini possono avere sul nostro organismo, sulla nostra psiche e sulla nostra socialità. Per avere una diagnosi approfondita è importante suddividere le conseguenze negative che le abitudini possono avere nel corso del tempo. Abbiamo deciso di dividerle in macro aree in modo tale da poter analizzare la nostra vita e rintracciare le abitudini nocive con facilità per riuscire poi a continuare il nostro percorso e modificarle. Il primo passo è infatti sempre riconoscere le abitudini negative. Abbiamo diviso le conseguenze delle abitudini negative in tre macro aree che abbracciano diversi ambiti della salute psicofisica, le conseguenze mentali, le conseguenze fisiche e le conseguenze relazionali. Le conseguenze mentali Le conseguenze mentali di un'abitudine negativa vengono spesso sottovalutate, banalmente perché non sono immediatamente visibili. In effetti, nel caso di una dieta sbagliata, è semplicissimo rintracciare un ingrassamento o un dimagrimento eccessivo. Mentre nel caso di un'abitudine negativa che va a intaccare la nostra salute mentale, la diagnosi spesso non risulta così semplice. Gli esempi da fare in tal senso sono innumerevoli. Il primo effetto delle cattive abitudini si può rintracciare nel modo in cui esse interferiscono con l'umore. Le emozioni, sia positive che negative, dipendono da diversi fattori. Spesso, quando ci si sente tristi o irritati, si tende ad analizzare il quadro generale, fatto che conduce a perdersi in una sorta di pensieri esistenzialisti che hanno la conseguenza di peggiorare il nostro tono dell'umore. In realtà, la tristezza potrebbe dipendere anche dalla carenza di alcuni enzimi o semplicemente da uno stile di vita errato che non è capace di apportare la giusta dose di serotonina al nostro cervello. Naturalmente, è importante valutare il quadro generale e anche parlarne con un professionista, se necessario. Ma nella maggior parte dei casi, fare attività fisica e prendere l'abitudine di fare delle passeggiate all'aria aperta può aiutare a ridurre sensibilmente i sintomi dell'abbassamento del tono dell'umore. È stato scientificamente provato che talvolta è necessario apportare soltanto delle modificazioni minime al proprio stile di vita per far sì che il proprio tono dell'umore ne giovi. Uno studio compiuto su ragazzi attorno ai 18 anni ha messo in relazione i loro livelli di sedentarietà e il rischio che avevano di sviluppare degli stati depressivi. È stato dimostrato che i ragazzi che tendevano ad avere uno stile di vita sedentario, con molte ore passate in casa a giocare ai videogiochi o guardare la televisione, avevano il rischio di incappare in stati depressivi per ben l'8-11% in più rispetto ai loro coetanei più attivi fisicamente. I ragazzi più attivi, coloro che praticavano uno sport o semplicemente si dedicavano a passeggiare per almeno qualche decina di minuti al giorno, al contrario, avevano meno possibilità di mostrare dei sintomi depressivi. Naturalmente non bisogna minimizzare quelli che sono i sintomi della depressione e associarli soltanto a un elemento fisico, ma questo fattore va senza dubbio tenuto in considerazione, perché la sua influenza sull'emergere di stati depressivi nel ragazzo e nell'adulto non è sicuramente banale. In generale, tutto ciò che avviene nel nostro corpo ha delle ripercussioni sulla nostra mente e viceversa. Il problema è che siamo abituati a pensare alla sfera mentale come a qualcosa di totalmente astratto e del tutto divisa dal resto del corpo, quando in realtà non è proprio così. Mente e corpo sono strettamente legati e vivono uno in funzione dell'altra. Basti pensare che tutti gli stati d'animo che viviamo sono influenzati strettamente dai neurotrasmettitori, cioè dalle particolari sostanze che veicolano le informazioni fra i neuroni attraverso la trasmissione tra sinapsi. È stato dimostrato, ad esempio, che una semplice passeggiata all'aperto di soli 30 minuti può aiutarci a produrre la giusta dose di endorfina, il neurotrasmettitore associato all'entusiasmo e all'ottimismo. Si tratta della stessa sostanza che produciamo quando siamo in stato di estasi oppure quando proviamo l'orgasmo. Anzi, esiste una sindrome molto particolare chiamata runner's high, letteralmente sballo del corridore, che colpisce i corridori professionisti subito dopo una corsa particolarmente intensa. I loro livelli di endorfina crescono in così poco tempo, raggiungendo apici vertiginosi tanto da causare loro una vera reazione simile a quella dovuta all'assunzione di droghe. Ma senza arrivare a questi casi estremi, bisogna ricordare che le abitudini positive o negative possono avere diverse conseguenze a livello mentale. Sono così tante le conseguenze mentali di un'abitudine nociva che forse le ripercussioni psichiche potrebbero essere considerate maggiori rispetto a quelle fisiche. Senza considerare il fatto che, come è stato scientificamente provato, mente e corpo sono molto più legati di quanto si pensasse in passato. Un malessere mentale ha spesso un corrispondente fisico e viceversa, come ribadiscono le discipline orientali, come ad esempio lo yoga o la medicina cinese. Il mondo occidentale tende a considerare mente e corpo come entità separate, dando alla prima un valore predominante rispetto al secondo. Molti fattori sono andati a incidere su questa concezione. In questa sede non scenderemo nel dettaglio, ma basti pensare al penso-dunque-sono di Cartesio, che ha posto chiaramente in vantaggio la mente, il raziocinio, rispetto al mondo fisico, quindi anche al corpo. In generale, la cultura occidentale è stata fortemente influenzata dallo sviluppo del positivismo, la corrente filosofica che prende in considerazione solo i dati sperimentali, senza tenere in conto la metafisica e altri fattori spirituali. In questo libro, invece, si adotta una visione più olistica del corpo umano, considerando mente e corpo come intimamente connessi, come vedremo anche in seguito nel paragrafo dedicato alla mindfulness. Mente e corpo sono così legati che un cambiamento mentale comporta anche dei visibili giovamenti fisici e viceversa. In ogni caso, le abitudini negative possono comportare delle conseguenze dannose sulla nostra psiche che sono facilmente identificabili in quanto tali. La prima conseguenza mentale di un'abitudine nociva è molto semplice da rintracciare. Si tratta della dipendenza. In effetti, il problema della dipendenza è strettamente legato alle abitudini, tanto da creare un vero e proprio cortocircuito, un circolo mentale dal quale è difficile uscire se non spezzandolo. Spesso, le abitudini negative diventano dipendenze perché hanno a che fare direttamente con sostanze che creano a sue fazione. Questo è il già citato caso del fumatore che con l'abitudine di accendere la sigaretta e inspirarne il fumo, di fatto introduce nel proprio corpo una sostanza, la nicotina, che crea dipendenza e che alimenta il circolo dell'abitudine, rendendo difficile smettere di fumare. In questo caso, dunque, c'è una causa fisica e chimica che spinge il fumatore a necessitare una dose di nicotina quotidianamente. La nicotina, infatti, influisce direttamente sul contenuto della dopamina nel cervello, cioè del neurotrasmettitore che consente di provare stati di benessere o euforia. È chiaro che l'organismo, inteso come l'insieme di mente e corpo, reagisca alla prima assunzione chiedendone nuovamente una dose. La dipendenza, tuttavia, non è sempre generata da sostanze che provocano a sue fazione dal punto di vista fisico, ma è soprattutto figlia di un processo mentale. Le abitudini che creano dipendenza vengono chiamate in psicologia comportamenti compulsivi e sono rappresentati da tutti quei comportamenti che vengono reiterati nel corso del tempo con la finalità di evitare il confronto con un problema che affligge la persona che ne soffre. Non bisogna confondere questo concetto con la distrazione. Si tratta di una vera e propria fuga da una situazione che crea angoscia nel soggetto. Il caso più clamoroso che può essere usato come esempio è quello di chi soffre del disturbo ossessivo-compulsivo. Chi è affetto da questo disturbo ha la tendenza maniacale a tenere tutto in ordine e sotto controllo, adottando dei comportamenti patologici quali la pulizia innecessaria e minuziosa, l'ordine estremo e la tendenza a pulire sul pulito. Inoltre, chi è affetto da questo disturbo tenderà a mettere in pratica una serie di rituali che includono una serie di comportamenti compulsivi, come sommare i numeri sulle targhe delle macchine, usare sempre la stessa mano per toccare determinati oggetti, eccetera. Nei casi più gravi, il soggetto avrà paura di morire o di essere punito se non mette in pratica questi strani rituali che variano da persona a persona. Se il disturbo si acuisce, il soggetto può sviluppare stati psicotici che vanno trattati accuratamente. Naturalmente in questo caso si tratta di un vero e proprio disturbo patologico che va preso in considerazione sotto l'ausilio di un esperto. Analizzare il comportamento estremo dell'ossessivo compulsivo in ogni caso ci fornisce una visione d'insieme interessante su quello che è il meccanismo delle abitudini più semplici. L'ossessivo compulsivo infatti mette in atto i propri rituali per sopperire a un senso di insicurezza o un senso di colpa molto marcato ma anche per evitare di pensare a problemi scomodi che cerca in qualche modo di soffocare nella ripetizione compulsiva di un determinato comportamento o nella convinzione che essi gli eviteranno di essere punito. In parole povere l'ossessivo compulsivo si rifugia in un mondo perfettamente e meccanicamente ordinato perché non vuole ritrovarsi da solo con dei problemi oppure perché cerca in tutti i modi di soppiantare un pesante senso di colpa. Capire il meccanismo di gratificazione e punizione è di fondamentale importanza per comprendere appieno il perché tendiamo a ripetere dei comportamenti che sappiamo essere negativi e perché continuiamo a creare delle abitudini nocive per il nostro organismo. In effetti quasi tutte le abitudini negative nascono esattamente per lo stesso motivo e si sviluppano in modi piuttosto simili. Se si analizza il comportamento di una persona che tende ad affogare tutti i propri problemi nel cibo in effetti si noterà che questa persona inizierà ad abbuffarsi quando si sente triste oppure quando ha passato una cattiva giornata mentre quando è più rilassata non avrà questi attacchi di fame con molta frequenza. Ma perché si reiterano dei comportamenti quando si è consapevoli che si tratta di comportamenti negativi? La ragione di ciò è che si tratta di azioni che forniscono una sensazione di sollievo e di protezione proprio perché evitano di affrontare il problema dal quale si sta fuggendo e spesso concedono una gratificazione immediata. La nicotina seppure presenta dei problemi sul lungo termine fornisce una sensazione di calma e di rilassamento istantaneo. Il cibo in grande quantità dona una sensazione di pienezza e di benessere fisico. Tuttavia si tratta sempre di sensazioni passeggere che presto lasciano ricadere la persona in uno stato di insicurezza e inquietudine mentre insorge nuovamente il problema che sta cercando di evitare e che la spingerà a metterli in atto nuovamente. Sul lungo termine si tratta dunque di abitudini negative non solo perché conducono a una serie di problemi psicofisici ma anche perché autoalimentano il circolo della dipendenza creando il circolo vizioso di gratificazione e punizione. Ciascuno di voi dovrà interrogarsi bene su quali siano le proprie dipendenze mentali e le conseguenze che ne derivano. Oltre alle più probabili abitudini già citate consigliamo a ognuno di concentrarsi molto sul self-talk. Il self-talk è il discorso interiore ovvero il modo in cui il soggetto comunica con se stesso. Il self-talk è anche esso figlio dell'abitudine e la dice lunga sul modo di rapportarsi con se stessi dando spesso a chi analizza delle prospettive inusitate. Sarà semplice effettuare un esercizio di autoanalisi. Ascoltate per 5 minuti il modo in cui vi rivolgete a voi stessi quando pensate. Usate delle parole dolci? Sono presenti molti ordini o addirittura insulti? Tendete a minimizzarvi oppure al contrario a farvi molti complimenti? Come siete abituati a pensarvi? Cambiare il proprio self-talk e renderlo più positivo può migliorare la propria autostima e renderci più sicuri di noi stessi. Questo semplice esercizio di consapevolezza tornerà utile anche alla fine di questo percorso. Caro ascoltatore iscriviti al nostro canale per non perdere i nuovi video. Le conseguenze fisiche Più semplici da osservare sono le conseguenze delle abitudini negative a livello fisico. Le cattive abitudini infatti spesso si associano a stati patologici perché se prolungate nel tempo portano a uno scompenso fisico che a sua volta provoca un malfunzionamento generale dei meccanismi biochimici del corpo. Le abitudini possono manifestarsi nel corpo a livello fisico in modi molto diversi fra di loro che vanno a intaccare il funzionamento degli organi o semplicemente del tono muscolare della linea. Le conseguenze più evidenti delle abitudini sono quelle negative. Ad esempio avere delle scorrette abitudini alimentari porterà a uno scompenso delle sostanze ingerite il quale condurrà inevitabilmente a dei cambiamenti fisici evidenti. Se mangiamo molti grassi infatti tenderemo a ingrassare mentre se non ingeriamo le giuste quantità di ferro mostreremo un colorito pallido. Nel famoso esempio del fumo della sigaretta riscontreremo difficoltà respiratorie affaticamento e alito cattivo. Ancora uno scarso tono muscolare e l'insorgenza di patologie quali la cellulite possono essere ricondotti in parte a un'attività fisica carente. Queste sono le conseguenze fisiche più semplici da riscontrare perché si manifestano sotto segni visibili. In effetti dal punto di vista medico quelle che per ora abbiamo chiamato conseguenze hanno un termine molto più specifico. Si tratta di sintomi. La parola sintomo deriva dal greco e significa evenienza o segno. Ciò vuol dire che i sintomi in medicina e in altre branche terapeutiche come la psicoterapia non rappresentano di per sé uno stato patologico. Essi sono i segni visibili di uno stato patologico più profondo che il medico indaga attraverso la diagnosi e l'anamnesi da parte del paziente. Il bruciore di stomaco non è una patologia ma la gastrite lo è. Il bruciore di stomaco è solo uno dei sintomi anche se è il più evidente e più facilmente riconducibile a questa infiammazione dello stomaco. Ogni buon medico sa bene che serve poco curare localmente il bruciore di stomaco se non lo si inserisce nel quadro di una sintomatologia più ampia da associare a una patologia. Infatti se non si individua la causa che ha portato all'insorgere del bruciore di stomaco esso riapparirà. Se invece si rintraccia il bruciore di stomaco in quanto sintomo di una patologia più ampia in questo caso la gastrite e verrà segnata una terapia volta a curare la gastrite sicuramente ne gioverà anche il bruciore di stomaco. Esattamente allo stesso modo bisogna trattare le abitudini negative e i loro sintomi più evidenti rintracciabili solitamente a livello fisico. Spesso infatti quando si parla di abitudini negative come abbiamo detto ci si trova a cercare di sciogliere i capi di un filo che vortica su se stesso. Le cattive abitudini spesso si autoalimentano. Uno dei rischi legati a questo fatto è quello che riguarda l'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare. è stato studiato che in Italia il 4,6% delle persone di genere femminile svilupperà disturbi associati alla bulimia almeno una volta nel corso della loro vita. Si tratta di un disturbo grave e serio e rende evidente come mente e corpo siano in effetti interconnessi e come perfezionismo e senso di colpa possono intaccare gravemente la persona a livello psicologico e fisico. Proprio per questo motivo è molto difficile distinguere le cause mentali da quelle fisiche e bisogna ricercare le cause delle cattive abitudini adesso nella mente e adesso nel corpo. Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente è una concezione del tutto occidentale quella di dividere la mente dal corpo. Le conseguenze mentali e fisiche di un'abitudine negativa sono così interconnesse che spesso è molto difficile distinguerle. Tuttavia le conseguenze fisiche sono più evidenti e ci aiutano come risultato a rintracciare anche quelle mentali e risalire all'abitudine negativa che le ha originate adottando un approccio olistico. Iniziare dalle conseguenze fisiche dunque è il modo più semplice per rintracciare le proprie abitudini negative già che le conseguenze fisiche sono solitamente più rapide ed evidenti da associare alla loro causa. Osservare il proprio corpo è sicuramente un valido aiuto per cercare le proprie abitudini negative. Identificarle infatti è il primo passo per cambiarle e capire le cause. Questo processo è diverso da persona e persona perché il fisico di ciascuno di noi reagisce in modo diverso di fronte all'ansia e agli altri stimoli della mente. Lo stress è un elemento molto importante da tenere in considerazione perché spesso gioca un ruolo cardine nell'insorgere di sintomi fisici e di abitudini negative. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito lo stress come il male del secolo. Negli Stati Uniti ben il 40% della popolazione dice di soffrirne mentre in Italia 9 persone su 10 ne sono affette. Lo stress è un rischio molto importante per la salute fisica e mentale e rappresenta una minaccia particolare perché tende anch'esso a instaurare dei circoli viziosi. Spesso per sopperire a stati di stress vengono messi in atto dei comportamenti compensativi errati che a lungo termine portano a un innalzamento dei livelli di stress anziché a un loro abbassamento. Come vedremo in seguito le abitudini negative spesso nascono per sopperire a uno stato ansioso ma finiscono per acuirlo. Chi è abituato ad alzare un po' troppo il gomito per esempio cerca di trovare uno sfogo al proprio stress nell'utilizzo delle sostanze alcoliche tuttavia a lungo andare esse possono rappresentare un rischio per la sua salute incidendo anche sui suoi livelli di stress. Ciò instaura un circolo vizioso difficile da spezzare. Lo stress è un agente che si mostra molto facilmente nel corpo e nella maggior parte dei casi è figlio di cattive abitudini cioè di uno stile di vita squilibrato e di uno scorretto ciclo di veglia e sonno. I sintomi dello stress sono molto ben conosciuti ma anche in questo caso variano da persona a persona. L'organismo di ciascuno risponde in maniera differente di fronte allo stress. Chi soffre di stress ha solitamente problemi di insonnia agitazione ansia generalizzata qualcuno tenderà a prendere peso velocemente altri mostreranno un dimagrimento eccessivo spesso si noteranno altre conseguenze fisiche quali capelli e unghie fragili spossatezza generalizzata dolori cronici e nei casi più gravi o acuti problemi gastrici e cardiaci se vi siete riconosciuti in uno di questi sintomi allora sarebbe bene iniziare a pensare a come abbassare i vostri livelli di stress come fare modificando le abitudini negative che vi portano a condurre uno stile di vita stressante è vero molto spesso non si può cambiare lavoro e la vita frenetica di città ci porta a essere perennemente stressati tuttavia introdurre alcune abitudini come ad esempio fare sempre un bagno caldo prima di dormire oppure mangiare in modo più salutare può aiutare a ridurre i livelli di stress del nostro organismo e a farci vivere una vita più sana allo stesso tempo individuate quali sono le vostre misure compensative cosa vi spinge a fare lo stress fumate quando siete ansiosi oppure bevete tendete ad abbuffarvi per sopperire a uno stato di stress annotate quali sono i giovamenti e quali sono le conseguenze negative a lungo e breve termine di queste abitudini per capire se vale la pena continuare a metterle in atto le conseguenze relazionali le abitudini negative possono avere delle ripercussioni serie non solo sulla nostra vita strettamente personale incidendo sul corpo e sulla mente un altro ambito della vita che ne risente pesantemente è quello che riguarda le relazioni personali spesso le conseguenze delle cattive abitudini si celano proprio nelle nostre relazioni più intime oppure solo nel modo in cui ci relazioniamo con il prossimo bisogna chiarire qui un punto fondamentale quando si cerca di cambiare le proprie cattive abitudini a poco serve cercare di cambiarle una per volta come abbiamo visto infatti le cattive abitudini derivano da uno stato di sofferenza più ampio perché spesso tentano di sopperire a stati ansiosi o situazioni di malessere in generale ciò che si dovrebbe cercare di fare è tentare di modificare il proprio approccio nei confronti della vita in generale adottando uno stile di vita più sano e un pensiero più positivo per fare ciò bisogna individuare le cause delle proprie abitudini negative e considerarle tutte insieme da un punto di vista globale per questo motivo prestare attenzione con consapevolezza alla propria vita interpersonale può aiutare a gettare una luce diversa sul modo in cui le nostre abitudini influenzano la nostra vita chi ha delle cattive abitudini infatti tende ad avere anche un cattivo rapporto con gli altri e la motivazione di ciò è che solitamente ha un cattivo rapporto anche con se stesso come abbiamo già detto le cattive abitudini fanno parte di un ciclo che si autoalimenta di compensazioni e azioni compulsive volte a soddisfare un senso di colpa o di insicurezza in effetti le cattive abitudini sono molto più presenti in quelle persone che sono insicure e presentano una bassa autostima questi individui solitamente tendono a adottare una serie di comportamenti che generano cattive abitudini e che si autoalimentano agendo sui tre ambiti della vita che abbiamo rintracciato un detto recita chi non sta bene con se stesso non può stare bene con gli altri potrà sembrare una banalità ma il benessere psicofisico dovuto a una vita sana ed equilibrata influisce nettamente sul modo in cui trattiamo noi stessi e di conseguenza anche gli altri chi sta bene con se stesso quindi ha di riflesso un rapporto più salutare anche con chi lo circonda l'insicurezza è propria delle persone che non hanno un buon rapporto con se stesse e anche in questo caso ci troviamo di fronte a un cane che si morde la coda infatti le cattive abitudini cercano di colmare un vuoto ma finiscono per fare proprio il lavoro contrario rendendo le persone ancora più insicure a causa delle conseguenze mentali e fisiche e deleterie per l'individuo e per il proprio organismo a questo proposito ricordiamo il meccanismo di punizione e gratificazione che abbiamo descritto nei precedenti paragrafi questo meccanismo va a definire meglio il quadro mentale della persona che tende ad avere cattive abitudini quando mettiamo in atto un'abitudine negativa di qualsiasi tipo essa sia di fatto mettiamo in atto un meccanismo di punizione allo stesso tempo mentre ne otteniamo gratificazione attraverso il piacere superficiale di cui abbiamo già parlato attuiamo una specie di autoconsolazione si potrebbe dire che le abitudini negative gettano il soggetto in uno stato di autocommiserazione perenne fino a quando non si decide a rompere il circolo questa decisione può anche venire fuori dopo anni di sofferenza vi ricorderete La coscienza di Zeno il celebre romanzo di Luigi Pirandello il protagonista del libro vuole smettere di fumare ripetendo a se stesso che ogni sigaretta è l'ultima della sua vita in realtà nel romanzo si descrive alla perfezione lo stato di una persona che fatica a prendere la decisione di cambiare vita fatto che si rispecchia in tutti gli ambiti dell'esistenza del protagonista intaccando anche le relazioni interpersonali con gli altri personaggi l'insicurezza può anche spiegarsi come una carenza grave di autostima chi non ha forte autostima tende spesso a cercare delle gratificazioni e delle ricompense al di fuori di sé instaurando un ciclo di dipendenze che possono essere anche relazionali una persona insicura lo è quasi in tutto quello che fa per questo motivo tenderà a trasportare le proprie abitudini negative anche all'interno delle proprie relazioni spesso chi tende ad avere abitudini negative di questo tipo tenderà anche a essere narcisistico nei propri rapporti oppure a cercare costante gratificazione nell'altro instaurando un rapporto di codipendenza questo avviene perché la persona non è indipendente e cerca la propria ragione d'essere negli altri cioè cerca una sicurezza che dovrebbe provenire dall'interno al di fuori di sé se si analizza il comportamento di una persona narcisistica che a prima occhiata potrebbe sembrare dominante rispetto agli altri in realtà si vedrà il volto di una persona insicura fragile che non è in grado di trovare il proprio valore dentro di sé se non dalle reazioni degli altri e dal tentativo di sottomettere le altre persone al proprio volere il narcisista il manipolatore l'istrionico sono tutte persone che hanno bisogno degli altri per sopravvivere quindi sono loro ad essere dipendenti e sottomessi nonostante le apparenze facciano pensare il contrario se il manipolatore si trova senza persone da manipolare automaticamente perde tutto il suo potere fittizio a questo punto possiamo dividere in due categorie gli effetti che le cattive abitudini possono avere sulle proprie relazioni interpersonali prendendo in considerazione due aspetti differenti il primo aspetto è quello immediato e banale che riguarda le conseguenze dirette dell'avere delle cattive abitudini sulle proprie relazioni molte cattive abitudini infatti spesso quando si acuiscono sono socialmente poco accettate ad esempio chi ha il vizio del gioco si ritroverà ad avere dei problemi sociali molto evidenti perché sarà evitato dai propri conoscenti oppure perché si troverà a fare dei debiti con amici e familiari il secondo aspetto da prendere in considerazione è quello che riguarda l'autostima avere delle cattive abitudini è sintomo di una bassa autostima che può sfociare da un lato come abbiamo già detto nel narcisismo dall'altro lato può manifestarsi come una tendenza a dipendere dalle altre persone una sorta di passività sociale che può condurre l'individuo a fare parte di situazioni sociali in cui spesso è manipolato ancora una volta si evidenzia che per interrompere le proprie cattive abitudini non è efficace trattarle a una a una ma bisogna capirle nel loro insieme e mettere in chiaro le cause che ci portano a metterle in atto solo in questo modo sarà possibile rintracciare la giusta strategia per cambiarle e avere uno stile di vita più sano anche dal punto di vista relazionale che tipo di relazioni avete siete attivi o passivi state con gli altri perché vi fa piacere o perché tentate di sentirvi meno soli rispondere a queste domande aiuta ad avere un quadro più chiaro circa la propria autostima come funzionano le abitudini abbiamo già ribadito come le abitudini negative possono influire sulla nostra vita di tutti i giorni condizionando le nostre capacità mentali fisiche e relazionali in realtà tutte le abitudini hanno delle ripercussioni su questi ambiti della nostra vita indifferentemente dal fatto che siano abitudini positive o negative se ne sarà accorto chi abbia tentato di adottare con più o meno successo uno stile di vita sano dal punto di vista dell'alimentazione e dell'attività fisica questi due fattori portano una serie di benefici a catena sulla vita dell'individuo che vanno a influenzare la sua positività il suo approccio nei confronti della vita e degli altri la propria salute fisica e mentale abbiamo evidenziato come si è importante imparare a capire le dinamiche che ci portano a mettere in atto determinate abitudini e riprodurle giorno dopo giorno la consapevolezza delle proprie abitudini e dei propri meccanismi interiori infatti è la chiave per iniziare il percorso di cambiamento che ci porterà ad abbandonare le nostre abitudini negative sebbene spesso la formazione delle abitudini segue dei meccanismi personali che derivano dalla storia psicologica di ciascuno di noi alcune dinamiche possono in realtà applicarsi a tutti capire come funzionano le abitudini è di vitale importanza per fare luce sui meccanismi inconsci che avvengono nella nostra mente come si dice nel mondo della mindfulness la consapevolezza è sempre il primo passo da mettere in pratica quando si ha intenzione di cambiare se stessi o anche quando si vuole cambiare le proprie abitudini scegliamo sempre la via più breve per capire al meglio come funzionano le abitudini cioè come si formano e come persistono nel tempo è importante introdurre un concetto fondamentale la differenza tra la mente controllata e la mente automatica questa divisione è puramente arbitraria perché i limiti tra una e l'altra non sono reali inoltre una non esclude l'altra anzi si attivano in ognuno di noi in circostanze differenti che analizzeremo nel dettaglio ognuno di noi ha due tipi di mente una mente che possiamo definire controllata e una mente che possiamo definire automatica la mente controllata è quella che ci permette di compiere delle decisioni di utilizzare il pensiero critico di capire cosa ci piace di avere idee nuove questo tipo di mente ci permette di avere un quadro generale della situazione in modo tale da effettuare scelte ragionate e quanto più razionali la mente automatica al contrario è la mente che esegue immaginate che all'interno della vostra mente abbiate un archivio di soluzioni da tirare fuori al momento del bisogno si tratta di azioni e reazioni che avete appreso in passato e che eseguite di riflesso per esempio è risaputo che una volta che si impara ad andare in bicicletta non ci si dimentica mai come rimanere in equilibrio e pedalare la mente automatica è quella mente che ci permette di camminare di guidare e di compiere tutte quelle azioni meccaniche di cui non abbiamo piena coscienza si tratta di azioni automatiche che non richiedono molta concentrazione e che possono essere svolte mentre facciamo altro l'esempio classico è quello della persona al volante che frena accelera e cambia marcia senza pensarci molto spesso durante la vita di tutti i giorni viviamo in modalità automatica senza rendercene pienamente conto questa modalità della mente permette di svolgere attività ripetitive in modo sistematico la mente automatica non riguarda soltanto singole azioni ma spesso anche interi lavori ad esempio un segretario vive molto spesso in modalità automatica se dovesse curare ogni dettaglio con il massimo dell'attenzione impazzirebbe da questo nascono gli errori d'ufficio quelle che sembrano delle distrazioni sono in realtà delle abitudini consolidate nel modo di operare del segretario che nella maggior parte dei casi con qualche eccezione gli rendono la vita più semplice è proprio l'organizzazione del lavoro a spingerlo ad adottare la mente automatica come modalità di sopravvivenza mentre il manager decide mente controllata il segretario esegue mente automatica la mente automatica ha quindi dei lati positivi perché ci permette di essere rapidi ed efficienti ma presenta dei limiti fondamentali se viviamo la maggior parte delle nostre giornate in modalità automatica lentamente perdiamo la capacità di emozionarci di sorprenderci di prendere decisioni fuori dagli schemi di guardare al di là del nostro naso la differenza fondamentale tra queste due modalità della mente è proprio la consapevolezza la mente controllata ha bisogno di una consapevolezza generale molto ampia per funzionare perché non si limita solamente a eseguire in effetti la maggior parte delle abitudini negative si consolidano perché vengono svolte mentre agiamo in modalità automatica senza pensarci troppo ma perché si sceglie la modalità automatica se porta a lasciare da parte ambiti tanto importanti della vita come le emozioni o la capacità decisionale la risposta è che essa fornisce sempre la via più semplice in parole più povere occorre immaginare il processo decisionale come un percorso che permette di scegliere tra diverse opzioni chi usa una modalità della mente automatica ha un set già preconfezionato di opzioni da scegliere al momento giusto ed evita lo sforzo di pensare alla cosa giusta da fare la conseguenza di ciò è che le abitudini negative vengono messe in atto come di riflesso quando iniziamo a fumare o a bere sperimentiamo che le sostanze introdotte nel nostro corpo riescono a placare immediatamente i nostri stati nervosi allora quando ci troviamo in uno stato di questo tipo tendiamo a mettere in atto in modo automatico la nostra abitudine cercando un immediato sollievo di fatti se ogni volta che mettessimo in atto le nostre abitudini negative fossimo totalmente consapevoli di quello che stiamo facendo probabilmente ci lasceremo andare a questi comportamenti con minore frequenza provate a essere consapevoli di quello che state facendo mentre mettete in atto un'abitudine negativa se siete fumatori pensate ai danni e gli svantaggi del fumo ogni volta che accendete una sigaretta provate a farlo per qualche settimana e appuntate i vostri probabili miglioramenti il condizionamento dei primi anni di vita sulle nostre cattive abitudini e sul rapporto che abbiamo con noi stessi e con il mondo incide profondamente l'educazione che abbiamo ricevuto durante i nostri primi anni di vita quando parliamo di educazione non intendiamo soltanto le buone maniere quando siamo bambini i nostri genitori rappresentano l'unico punto di riferimento per noi quindi essi rappresentano l'unico filtro attraverso il quale siamo capaci di guardare la realtà e trarne delle informazioni utili questo tipo di primo imprinting nei confronti del mondo che riceviamo durante i primi anni della nostra vita condizionerà buona parte della nostra esistenza spesso si tratta di insegnamenti positivi che ci aiutano ad affrontare al meglio le situazioni e ci permettono di relazionarci con gli altri in modo salutare altre volte invece i nostri genitori loro malgrado ci hanno trasmesso una serie di convinzioni e comportamenti negativi difficili da estirpare se non con una buona dose di disciplina e consapevolezza di noi stessi per questo motivo bisogna tenere in considerazione il ruolo degli insegnamenti che abbiamo ricevuto durante i primi anni della nostra vita se vogliamo capire come nascono le abitudini e anche come funziona l'atteggiamento che porta alla loro formazione i primi anni della nostra vita giocano un ruolo cardine nella costruzione delle nostre abitudini e anche nel modo che abbiamo di rapportarci ad esse infatti le abitudini non sono soltanto i comportamenti che ogni giorno mettiamo in atto ma sono figlie soprattutto di un atteggiamento che adottiamo nei confronti della vita in generale che influenza nel bene o nel male tutta la nostra esistenza nella mindfulness si parla molto del concetto di mindset questa parola inglese potrebbe essere tradotta in italiano come atteggiamento della mente indica esattamente la modalità con cui ci interfacciamo con i problemi e con le situazioni nuove che la vita ci può offrire chi si occupa di mindfulness distingue due tipi di mindset opposti il primo è chiamato mindset di crescita mentre l'altro è detto mindset rigido la differenza è basata sulla diversa concezione del fallimento che si ha quando si adotta un mindset piuttosto che l'altro chi adotta un mindset di crescita non percepisce il concetto di fallimento o meglio per queste persone è possibile sbagliare ma ogni volta è interpretata come una nuova occasione che può portare a un miglioramento le sfide quotidiane e la vita in generale sono intese come un cantiere sempre aperto in cui ci si può allenare cercando di portare giovamento a sé e agli altri attraverso piccoli aggiustamenti al contrario chi adotta un mindset rigido non riesce a vedere le sconfitte come occasioni di miglioramento ma tende a pensare che tutto sia perduto in poche parole interpreta anche la più lieve cosa andata storta come un fallimento il mindset è frutto in primo luogo degli insegnamenti che abbiamo ricevuto durante i primi anni della nostra vita nei bambini questo fatto risulta molto chiaro basta osservare la loro reazione di fronte a una sfida un bambino al quale è stato trasmesso un mindset di crescita prova e riprova fino a quando riesce nel suo intento ridendo dei propri sbagli un bambino al quale è stato insegnato un mindset rigido invece reagisce negativamente alla sconfitta si dà per vinto al primo tentativo andato male e assume un atteggiamento pessimistico nei confronti della sfida e della propria capacità di superarla difficilmente il mindset cambia nel corso della vita a meno che la persona non tenti attivamente di riuscire ad assumere un atteggiamento positivo il mindset gioca un ruolo fondamentale per la formazione delle abitudini sia di quelle buone che di quelle cattive infatti chi possiede una cattiva abitudine e vuole cambiare ma possiede un mindset rigido sarà portato a pensare che il compito sia più difficile di quello che in effetti è immaginatevi il solito fumatore incallito che decide di smettere di fumare probabilmente non riuscirà a smettere tutto di un colpo ma dovrà andare incontro a momenti di ricadute e giornate in cui gli sembrerà impossibile smettere di fumare se possiede un mindset di crescita per lui sarà più semplice immaginare ogni volta in cui accenderà suo malgrado un'altra sigaretta come una nuova occasione per mettersi alla prova e non fumare per un periodo maggiore rispetto al precedente al contrario se ha un mindset rigido gli verrà più semplice pensare che ogni sforzo è vano già dopo aver acceso una sola sigaretta dal giorno in cui aveva deciso di smettere di fumare il mindset che adottiamo nella maggior parte delle situazioni della nostra vita è figlio di un nostro atteggiamento generale nei confronti della realtà che nella maggior parte dei casi proviene da quello che ci hanno insegnato i nostri genitori i primi anni della nostra vita influenzano enormemente la nostra vita quotidiana e anche le nostre scelte più profonde il rapporto con i genitori può portare il bambino a sviluppare un'autostima alta oppure un'autostima molto bassa e può condurlo a sviluppare dei tratti caratteriali piuttosto che altri a guardare bene tendiamo a creare abitudini negative perché è nostra abitudine farlo in effetti sarà possibile constatare che chi ha un'abitudine negativa ne possiede di norma anche almeno un'altra per esempio il fumatore è anche un bevitore di alcol nella maggior parte dei casi questo accade perché come abbiamo visto nello scorso capitolo chi crea delle abitudini negative lo fa tendenzialmente per riempire un vuoto che può essere affettivo o relazionale quindi se si vuole veramente cambiare il proprio stile di vita bisogna innanzitutto riflettere sul rapporto che il nostro bambino interiore ha con la realtà si vede bello o si vede brutto si considera degno d'amore oppure pensa che ogni occasione è buona per essere punito per cambiare le proprie abitudini negative bisogna innanzitutto cambiare la propria abitudine di creare abitudini negative per fare ciò è importante riflettere sui primi anni della nostra vita e far comunicare l'adulto con il bambino per farlo sentire accolto amato e degno d'affetto inoltre bisogna tenere bene a mente che il processo per abbandonare le abitudini negative e costruirne di nuove e più positive non è lineare e non avviene da un giorno all'altro si tratta di un percorso tortuoso a volte difficile sarà molta l'adrenalina evocata dal cambiamento ma anche molta la paura di non farcela e la tentazione di mollare se avete deciso di imbarcarvi in questo percorso verso il cambiamento ricordate di armarvi della giusta dose di costanza ricordatevi inoltre che il fallimento è contemplato all'interno di questo percorso e sarà solamente una sfida da superare per arrivare un passo ancora più vicini al vostro traguardo il funzionamento dal punto di vista dei neuroni cosa succede ai nostri neuroni quando adottiamo una nuova abitudine come si può spiegare scientificamente il fatto che è difficile abbandonare le vecchie anche quando siamo consapevoli della loro nocività sul nostro organismo abbiamo già visto come le abitudini si costruiscono per via delle scelte che prendiamo quando siamo di fronte a una situazione e abbiamo già notato che in generale si tende sempre a scegliere la strada già battuta in passato perché questa è la via più breve il processo decisionale infatti cercando di attivare il meno possibile la mente controllata tenderà a riproporre risposte elaborate in passato per rendere il processo più rapido e scorrevole la mente automatica presenta una serie di opzioni confezionate che è capace di tirare fuori ed eseguire ogni volta che si trova di fronte a uno stimolo simile a uno che ha incontrato in passato la motivazione per cui mettiamo in atto questo processo ha delle ragioni evoluzionistiche l'uomo primitivo che si fosse trovato di fronte a una tigre infatti avrebbe dovuto rispondere immediatamente allo stimolo per non rischiare di morire quindi uno stimolo visivo si trasforma in una reazione emotiva la paura che a sua volta metteva in atto tutta una serie di reazioni da parte dell'uomo primitivo la sudorazione la tensione muscolare il respiro pesante l'avrebbero aiutato a scappare dalla tigre e a metterlo in salvo come si può capire da questo esempio l'uomo primitivo non aveva la necessità di mettere in atto la propria mente controllata perché quella automatica che rispondeva all'istinto compiva tutto il lavoro al posto suo permettendogli di salvare la pelle la mente automatica ha un ruolo molto importante nella nostra vita era funzionale a strappare al pericolo la vita dell'uomo primitivo ed è la stessa mente che ci aiuta a far fronte a situazioni improvvise anche al giorno d'oggi è la mente automatica infatti quella che ci permette di frenare quando stiamo per tamponare al semaforo di spegnere il fornello quando stiamo per bruciare la cena ma anche di avere la risposta giusta al momento giusto quando siamo colti con le mani nel sacco da un superiore al lavoro insomma la mente automatica è talvolta necessaria per la sopravvivenza dell'uomo anche dal punto di vista sociale ma come funziona dal punto di vista biologico il processo decisionale che abbiamo appena descritto trova la propria corrispondenza specifica nel modo in cui i nostri neuroni interagiscono tra di loro e ci permettono di arrivare a una scelta è ormai risaputo che i neuroni funzionino a rete questo vuol dire che un neurone isolato dagli altri non è capace di portare nessun tipo di informazione mentre comunicando con gli altri e creando quindi una rete permette di pensare di far funzionare il cervello in modo consono nel percorso che i neuroni compiono per interagire tra di loro possiamo ritrovare esattamente il disegno del percorso decisionale che abbiamo già descritto quando dobbiamo compiere una scelta i nostri neuroni si attivano in modo specifico compiendo un vero e proprio tragitto gli stimoli provenienti dalla situazione che abbiamo di fronte tenderanno ad attivare un particolare neurone che a sua volta inizierà a stimolare i neuroni che ha già preso in causa le volte precedenti per capire meglio questo concetto bisogna immaginare che i neuroni abbiano una memoria e che siano capaci di ricordare il percorso che hanno effettuato la volta precedente in realtà essi non posseggono realmente una memoria ma saranno portati per tutta una serie di cause chimiche e fisiche a stimolare quel neurone piuttosto che un altro questo fa sì che alla fine i neuroni riproporranno in una situazione la stessa reazione a catena che avevano messo in atto la volta precedente ecco come si crea un'abitudine se ogni volta che ci troviamo di fronte a uno stimolo i neuroni reagiscono effettuando lo stesso percorso e mantenendo i medesimi segnali allora questo vuol dire che anche le nostre azioni saranno sempre le stesse se la mente ha registrato il senso di piacere che deriva dall'assunzione di nicotina dopo un accesso di rabbia allora sarà molto probabile che la prossima volta che proveremo questa emozione il cervello ci manderà un impulso ben preciso la necessità di assumere una nuova dose di nicotina questo processo non funziona soltanto con le sostanze che assumiamo o con il cibo che mangiamo in realtà è alla base di ogni gesto che compiamo dal camminare al ricordare come si fa il caffè dal guidare al sapere scrivere al computer questi sono tanti gesti che possono apparire naturali durante la vita di tutti i giorni ma che in realtà abbiamo dovuto apprendere con il tempo e con i tentativi quando per la prima volta avete provato ad andare in bicicletta probabilmente i risultati non saranno stati sin da subito e più rosei tutti abbiamo dovuto affrontare mille cadute prima di capire il modo migliore per rimanere in equilibrio sul sellino e pedalare ma adesso anche se non prendete una bicicletta da anni ricordate alla perfezione come raggiungere questo equilibrio la stessa cosa è valida quando si impara a nuotare e anche se nella maggior parte dei casi non lo ricordiamo a parlare e a camminare siamo stati capaci di apprendere tutte queste azioni che oggi svolgiamo ogni giorno con estrema facilità perché il nostro cervello è stato in grado di memorizzare le azioni le posizioni le angolazioni e le forze giuste da adottare in ciascuna situazione il percorso che alla fine il cervello ha memorizzato corrisponde alla modalità adattiva migliore infatti a causa delle cadute e delle ginocchia sbucciate il cervello ha registrato alcune posture per andare in bicicletta come sbagliate e altre come giuste lo stesso procedimento si applica a tutte le cose che impariamo coscientemente o inconscientemente è proprio questa capacità del cervello di imparare sempre nuove abilità e funzioni quella che ci ha permesso di diventare la specie evoluta che siamo oggi e che dall'altro lato ci differenzia dai robot uno degli scogli maggiori che chi si occupa di intelligenza artificiale deve affrontare infatti è il fatto che i robot debbano essere in grado di apprendere nuove informazioni e di metterle in pratica al momento giusto per cambiare le proprie abitudini dunque bisogna essere in grado di addestrare non solo la nostra buona volontà ma anche il nostro cervello a livello microscopico è una causa fisica e scientificamente provata quella che ci spinge a reiterare delle abitudini negative esse sono state memorizzate dal nostro cervello e adesso a noi tocca il compito di disabituarlo a mettere in atto tali percorsi secondo alcuni recenti studi i neuroni ci mettono circa 40 giorni a memorizzare il percorso da effettuare davanti a una situazione nuova questo vuol dire che 40 giorni è la quantità di giorni che sarà necessaria per adottare una nuova abitudine come vedremo nell'ultima parte del libro ripetere la stessa azione per 40 giorni consecutivi aiuta a creare delle nuove abitudini e a addestrare il cervello a rispondere in modo più salutare di fronte a una determinata situazione questo riguarda le abitudini nuove allo stesso tempo però è abbastanza difficoltoso portare il proprio cervello a dimenticare le abitudini precedenti questo perché esse si sono cristallizzate attraverso una serie di meccanismi fisici e chimici oltre che mentali tanto da creare anche loro una sorta di dipendenza il circolo vizioso di cui parlavamo in precedenza trova un proprio riscontro anche a livello neuronale la spiegazione scientifica che ci permette di capire il funzionamento dei neuroni e quindi il modo in cui le abitudini prendono forma nel nostro cervello dal punto di vista neuroscientifico ci consentono di fare delle considerazioni molto importanti in primo luogo a causa di un processo biologico il nostro cervello tenderà a reindirizzarci sulle nostre abitudini precedenti perché anch'esso è abituato a seguire un determinato percorso e ha bisogno di un periodo di tempo per disabituarsi inoltre per far cristallizzare una nuova abitudine è necessario insistere nonostante i passi indietro perché dobbiamo dare al nostro cervello il tempo di abituarsi alle nuove abitudini anche dal punto di vista biologico e chimico per questo motivo bisogna sempre pensare che i passi indietro e le ricadute sono funzionali alla riuscita del nostro intento se da una parte essi possono essere interpretati come un fallimento o come un'incapacità di smantellare una vecchia abitudine d'altra parte bisogna ricordarci che questo atteggiamento non dipende solo ed esclusivamente da noi essendo basato anche su cause fisiche e chimiche prossimamente cercheremo di capire in che modo è possibile cambiare le proprie abitudini e quali sono i metodi più vincenti per raggiungere questo obiettivo fatto che potrebbe diventare più semplice di quello che vi è sembrato finora come cambiare le proprie abitudini a questo punto dovrebbe essere chiaro in che modo le abitudini possono influenzare la nostra vita di tutti i giorni e come funzionano a livello fisico e mentale adesso possiamo dedicarci finalmente a cambiare le nostre abitudini per fare ciò prima di vedere i comportamenti da adottare a lungo raggio dobbiamo cercare di destrutturare le nostre abitudini a una a una cercando in primo luogo di capire in che modo esse siano diventate abitudini perché abbiamo scelto di cominciare a fumare forse abbiamo fumato la prima sigaretta quando avevamo appena 14 anni perché volevamo essere accettati dal nostro gruppo di amici ma com'è cambiato questo nel tempo adesso che siamo adulti ci sentiamo accettati quando accendiamo l'ennesima sigaretta alla fermata dell'autobus perché lo facciamo forse ci sentiamo fuori posto osservati o giudicati se non facciamo niente per questo decidiamo di prendere la sigaretta tutto si ricollega in qualche modo a quell'antico senso di dover essere accettati ma come cambia il nostro senso di accettazione quando avremo spento la sigaretta esatto non cambia proprio per niente ma continuiamo a farlo perché come abbiamo detto preferiamo sempre scegliere la via più breve invece di cambiare strategia si tratta di quello che viene definito una misura compensativa cioè di un'azione volta a risolvere un problema anche se le cause e gli effetti sono completamente slegati da esso praticamente quando mettiamo in atto un'abitudine negativa stiamo cercando a ripetizione di risolvere un problema senza fornire una valida soluzione fatto che ci porta a ripetere l'azione spesso e con sempre più frequenza con il risultato che proprio niente cambia nella realtà in questo caso fumare la sigaretta comporta invece una serie di conseguenze deleterie per la vita mentale fisica e relazionale del fumatore lasciando il senso di accettazione dello stesso sempre ai suoi livelli bassissimi spesso si pensa che per cambiare le proprie abitudini ci sia bisogno di uno sforzo immenso e una costanza fuori dal comune in realtà il vero modo per cambiare le nostre abitudini è capirle profondamente e capire profondamente noi stessi una volta che le capiamo le abitudini tendono a caderci di mano cioè scivolano via è vero per cambiare le proprie abitudini c'è bisogno di costanza ma sicuramente non di sforzo perché come vedremo per quanto paradossale possa sembrare spesso è uno sforzo maggiore mantenere le proprie cattive abitudini invece di lasciarle andare in che modo un'abitudine diventa un'abitudine abbiamo già spiegato in che modo funzionano le abitudini e abbiamo anche accennato al fatto che ci sia bisogno di un certo periodo di tempo perché si cristallizzino nella mente e anche nel cervello le abitudini quindi diventano tali quando vengono ripetute per un certo numero di volte nel corso del tempo qualcuno afferma che il numero di volte in cui le abitudini devono essere ripetute è 40 quindi se si fa attività fisica per 40 giorni di seguito fare attività fisica diventerà un'abitudine alcuni dicono che funzioni ma sarà davvero così la risposta non è totalmente negativa né totalmente positiva si potrebbe dire che questo dipende da persona a persona a seconda di diversi fattori non facilmente prevedibili e sicuramente non validi per tutti di certo ripetere un'azione per un certo numero di volte aiuta a costruire una nuova abitudine che sia negativa o positiva ma spesso non è sufficiente è vero ripetere l'azione fa in modo che si vengano a creare i circuiti neuronali adatti che giustificano l'abitudine dal punto di vista fisico ma anche in questo caso la ripetizione di per sé non è sufficiente affinché un'abitudine diventi tale allora qual è il tassello che manca affinché un'azione smetta di essere un atto ripetuto e diventi davvero un'abitudine quello che manca il più delle volte è l'intenzione non stiamo parlando della volontà di fare qualcosa naturalmente se avete cominciato a svolgere un'azione a meno che voi non ne siate stati costretti sicuramente ne avevate la volontà anche se non ne eravate consapevoli il fatto di muovere i muscoli per fare qualcosa è indice di volontà individuale ma l'intenzione è ancora un'altra faccenda l'intenzione di cui stiamo parlando è qualcosa di leggermente diverso è un obiettivo che ci si prefigge e che viene interiorizzato così profondamente che diviene in qualche misura irrazionale diventa qualcosa che vogliamo sia con la mente che con il corpo con la medesima intensità è più un atteggiamento volto al raggiungimento di un qualcosa piuttosto che un'azione concreta vera e propria possiamo definire l'intenzione come un particolare atteggiamento che viene dalla mente e si rispecchia allo stesso tempo nel corpo non è una vera e propria azione ma piuttosto una predisposizione di animo che fa agire sinergicamente mente e corpo verso uno stesso scopo è come se mente e corpo collaborassero insieme attivamente per il raggiungimento di un obiettivo è come se la consapevolezza non fosse appannaggio esclusivo della mente ma lo diventasse anche per il corpo ma cosa succede quando mente e corpo collaborano per raggiungere un obiettivo esatto non sempre si crea una collaborazione equilibrata spesso succede che la mente prenda il sopravvento razionalmente mentre altre volte si viene a creare una sinergia particolare che è proprio quella che dà vita alle abitudini quando la mente prende il sopravvento spesso le azioni che svolgiamo sembrano macchinose e non proprio naturali mentre quando il corpo prende il sopravvento sembriamo disordinati forse scalmanati come durante un attacco epilettico quando invece finalmente viene a crearsi la sinergia di cui stiamo parlando i nostri gesti sembrano sensati e allo stesso tempo armoniosi il bello è che quando impariamo ad attivare questo tipo di funzione poi è difficile tornare a essere come eravamo prima l'esempio lampante di questa idea è quello della persona che per la prima volta vuole imparare a ballare un tipo di danza nuovo mettiamo che voi vogliate imparare a ballare la samba questo ballo ha un ritmo molto diverso da quello che l'orecchio occidentale è abituato ad ascoltare nelle canzoni della radio e inoltre si basa su un alternarsi vorticoso di passi in avanti e indietro che spesso può trarre in inganno anche il danzatore più esperto la prima volta che proverete a ballare la samba sicuramente non riuscirete ad andare dietro al passo del danzatore professionista vi affannerete per mantenere il ritmo e spesso sarà in vano forse penserete che non riuscirete mai a imparare i passi di danza che resteranno per voi sempre una specie di mistero non vi sarà chiaro com'è possibile che dei movimenti che sembrano tanto naturali nel vostro istruttore a voi costino sudore e fatica nella vostra mente è un continuo contare 1 2 3 4 1 2 3 4 quando vi guardate nello specchio della palestra notate che i vostri movimenti sono davvero goffi sembrate impacciati o forse siete più simili a degli androidi macchinosi che ai ballerini sensuali che volevate diventare quando avete deciso di iscrivervi al corso di samba provate e provate ma tutti gli sforzi vi sembrano inutili o vi lasciate andare con il rischio di perdere il conto e pestare i piedi al vostro partner di danza oppure siete troppo impegnati a contare con il risultato di sembrare dei manici di legno poi a un certo punto succede l'inverosimile smettete di contare con la mente e il vostro corpo sembra mettersi a pensare con un linguaggio nuovo e del tutto non razionale un momento dopo sapete ballare la samba come il miglior ballerino brasiliano questo processo così palese durante la danza viene messo in atto dal nostro organismo quotidianamente come per esempio quando guidiamo cuciniamo scriviamo sulla tastiera o svolgiamo altre azioni di cui abbiamo una conoscenza non solo razionale ma anche spaziale e motoria è successo che la vostra mente e il vostro corpo hanno iniziato a lavorare in sinergia seguendo la stessa intenzione quando fissate un'intenzione uno scopo è più facile che la vostra mente e il vostro corpo riescano ad andare in sinergia o per usare altre parole che venga messo in moto il cervello automatico quando avete imparato ad andare in bicicletta probabilmente ci avete messo qualche giorno per riuscirci forse vostro padre o vostra madre vi veniva dietro forse siete caduti diverse volte fino a quando avete imparato dove mettere i piedi e dove far cadere il peso del vostro corpo per mantenervi in equilibrio eppure adesso anche se non andate in bicicletta da qualche anno sedendovi su un sellino sapreste perfettamente cosa fare senza dover pensare a dove mettere i piedi questo accade perché anche il corpo ha una memoria o per meglio dire abbiamo tutti una memoria diversa da quella ordinata e razionale una memoria che ha a che fare più con le sensazioni e le emozioni che con i dati oggettivi in questo caso la sinergia tra mente e corpo ha creato un'abitudine positiva utile è utile saper andare in bicicletta è bello saper ballare la samba ma cosa accade quando apprendiamo senza saperlo delle reazioni automatiche che non sempre sono positive e che spesso finiscono con l'essere dannose per la nostra vita pensiamo a un esempio banale che però può essere traslato su tutte le abitudini negative che pensate di avere e che volete cambiare quante volte camminando per andare al supermercato o venendo dal lavoro vi è capitato di imboccare senza accorgervene la strada di casa è l'abitudine avrete pensato sorridendo certo è proprio l'abitudine proprio quello che stiamo cercando di descrivere il corpo sa meglio della mente quello che deve fare e molto semplicemente lo fa ma non è sempre un bene non sempre fa solo sorridere la stessa cosa accade al fumatore quando si sente sotto tensione e macchinalmente mette la mano in tasca per prendere il pacchetto di sigarette la stessa cosa succede quando chi mangia in modo compulsivo si sente triste e si dirige verso il frigorifero allora come possiamo fare in modo che il nostro corpo disimpari degli atteggiamenti negativi e adotti delle nuove abitudini positive creare nuove abitudini non consiste che in questo spingere alcune azioni a passare dal cervello controllato a quello automatico in modo tale che vengano assimilate dal corpo allo stesso modo eliminare cattive abitudini significa fare in modo che il corpo le dimentichi e che non le ritenga più necessarie per attivare circoli di dipendenza le dipendenze non hanno a che fare soltanto con sostanze esterne al nostro corpo spesso sono proprio le abitudini a creare dipendenza la dimostrazione se fosse così semplice smettere con le cattive abitudini non sareste qui ad ascoltare queste parole quindi le cattive abitudini creano dipendenza anche le buone abitudini sono in grado di creare dipendenza ad esempio la corsa producendo dopamina invoglia il corridore a correre sempre più e ripetere l'azione anche il giorno successivo allo stesso modo anche un'abitudine salutare come mantenere una dieta bilanciata può creare dipendenza sapete che se eliminate il sale dalla vostra dieta poi sentirete il suo sapore molto più facilmente spesso non riuscirete neanche a sopportare il sapore del sale sulle vostre pietanze oppure sapete che se vi abituate a tenere il vostro luogo di lavoro sempre pulito e ordinato poi sarà più difficile sporcarlo e metterlo in disordine solitamente non si sporca sul pulito ed è più facile sporcare sullo sporco quindi le dipendenze non sono sempre negative e adesso che abbiamo visto in che modo un'abitudine diventa un'abitudine possiamo passare a vedere insieme in che modo è possibile modificarle per prima cosa vedremo se è vero che è uno sforzo cambiare le proprie abitudini è veramente uno sforzo cambiare? sicuramente se state ascoltando queste parole è perché avete deciso di cambiare le vostre abitudini ma quanto sforzo vi è costato capirlo e quanto altro decidere di farlo davvero attraverso delle azioni concrete spesso è difficile prendere la decisione di cambiare le proprie abitudini e questo accade perché il procedimento di cambiare le proprie abitudini viene visto come uno sforzo troppo grande da riuscire a sopportare sembrerebbe che per cambiare le proprie abitudini ci sia bisogno di tanta forza di volontà di costanza e di uno sforzo incredibile sia dal punto di vista fisico che da quello mentale per questo molte persone sono spaventate anche solo dall'idea di intraprendere questo percorso prefigurandosi ore di sforzo privazioni sudore o magari tristezza regole restrittive e noia molti si sentono spaventati dall'idea di apportare modifiche alla propria vita vedendole come cambiamenti drastici e irreversibili capaci di condizionare tutti gli ambiti dell'esistenza in modo profondo in realtà non è esattamente così in primo luogo bisogna ricordare che cambiare le proprie abitudini non è qualcosa che avviene in una frazione di secondo si tratta invece di un percorso che bisogna affrontare giorno dopo giorno con i momenti di ricaduta la frustrazione e la demotivazione che ne susseguono anche la decisione di cambiare non arriva in modo repentino ma è frutto di mesi forse anni di ragionamenti e di ripensamenti poi le modifiche che questa decisione fa avvenire nella nostra vita non avvengono dalla sera alla mattina invece è una decisione che va a modificare la vita sul lungo raggio attraverso mutazioni lente ma costanti quindi è uno sforzo mantenere la stessa abitudine per un lungo lasso di tempo non proprio anche questa volta perché spesso quando si lasciano andare delle abitudini negative la vita diventa più semplice invece che più difficile tanto che spesso sembra più complicato mantenerle piuttosto che lasciarle andare prendiamo ancora una volta l'esempio classico quello del fumatore per fumare il tabagista deve comprare le sigarette assicurarsi di avere sempre un pacchetto di riserva organizzare il proprio tempo in base alla dose di nicotina che necessita per essere soddisfatto organizzare le giornate in base all'orario di lavoro dei tabaccai vivere costantemente all'aperto anche in inverno visto che spesso è vietato fumare nei luoghi chiusi sarà sempre schiavo della sigaretta del fatto di averne sempre qualcuna di riserva del non dare fastidio agli altri sarà inoltre condizionato dal punto di vista economico fumare è tra le altre cose anche una spesa non indifferente per mantenere questo vizio il fumatore spesso è costretto a fare tagli magari andando a incidere sulle vacanze sul nuovo computer che voleva comprare oppure su piccoli interventi di ristrutturazione della sua casa invece per smettere di fumare deve semplicemente non farlo certo non è semplice così come lo abbiamo descritto ma sicuramente la vita del fumatore diventa meno complessa quando smette di fumare rispetto a quando continua a fumare infatti quando decidiamo di cambiare le nostre cattive abitudini lo facciamo proprio perché esse ci complicano la vita non fare un'azione e tutto ciò che essa comporta è molto più semplice che farla è uno sforzo maggiore quello di ingegnarsi per passare dal tabaccaio al momento giusto all'ora giusta piuttosto che non farlo proprio è uno sforzo molto minore quello di non fumare rispetto a quello di rinunciare a una vacanza o a qualche piccolo capriccio chi non fuma si sforza molto di meno sotto questo punto di vista rispetto a chi fuma cambiare le cattive abitudini dunque non è uno sforzo è piuttosto un lasciar andare un perdere di vista quindi in qualche senso è proprio il contrario dello sforzo immaginate le cattive abitudini come qualcosa che state trattenendo per trattenere qualcosa serve sempre applicare un certo tipo di forza se invece le lasciate andare non dovete più fare questo sforzo ma appunto rilassarvi e rilasciarle in questo caso entra in ballo l'intenzione si deve tutti i giorni porre l'intenzione di cambiare la propria abitudine negativa fino a quando comincerà da sola a lasciare il passo ad abitudini più salutari certamente bisognerà compiere anche qualche azione attivamente per smettere con le proprie abitudini negative ma il fine è sempre quello di arrivare al punto in cui corpo e mente iniziano a lavorare sinergicamente solo in questo modo sarà possibile far passare alcune azioni dal comando della mente controllata a quello della mente automatica solo in questo modo infine sarà possibile costruire delle nuove abitudini che andranno a cristallizzarsi anche dal punto di vista fisico creando nuovi circuiti neuronali che andranno a sostituire quelli precedenti anche dal punto di vista fisico in effetti non c'è nessuna forma di resistenza da parte dei circuiti neuronali passati anzi lentamente si disfano per lasciare posto a quelli nuovi fino a quando il cervello si dimentica letteralmente di loro anzi per meglio dire quei collegamenti si dissolvono completamente quindi cambiare abitudini non è uno sforzo l'unico sforzo è quello di impostare l'intenzione verso il cambiamento sforzo che come abbiamo detto non è definitivo visto che porta a un percorso di cambiamento piuttosto che a una singola azione rivoluzionaria cambiare abitudini non modifica irreversibilmente drasticamente la nostra vita ma la modifica lentamente e impercettibilmente tanto che i risultati possono impiegare del tempo per venire fuori ma a un certo punto saranno tanto evidenti da lasciarvi di stucco proprio come il ballerino di cui parlavamo prima che a un certo punto si ritrova esperto di samba dopo mille tentativi non andati a buon fine metodi per cambiare le proprie abitudini adesso che il quadro sulle abitudini è finalmente completo vedremo insieme in che modo è possibile cambiare le proprie abitudini dal punto di vista pratico abbiamo analizzato il modo in cui le abitudini si formano le motivazioni che portano alla loro cristallizzazione e le loro conseguenze adesso vedremo alcuni dei metodi più utili per trasformare le abitudini questo può essere raggiunto sia modificando quelle già esistenti oppure eliminandole sia introducendo delle abitudini completamente nuove qualsiasi sia il vostro scopo questi metodi riusciranno sicuramente ad apportare dei benefici duraturi nelle vostre vite vedremo in primo luogo il metodo dei 40 giorni che permette di introdurre gradualmente una nuova abitudine svolgendola per 40 giorni di seguito poi vedremo il metodo del diario tenere traccia dei propri progressi aiuta molto a realizzare visivamente quali siano i propri passi in avanti e aiuta a mantenere alta la motivazione in seguito parleremo della mindfulness la mindfulness non è un vero e proprio metodo ma piuttosto un atteggiamento nei confronti della vita che permette tra gli altri vantaggi di edificare delle abitudini più salutari e abbandonare quelle vecchie e dannose infine vedremo come sono proprio le abitudini positive a portare con sé una serie di cambiamenti che comportano per forza di cose anche l'abbandono di altre abitudini negative le abitudini positive arrivano sempre tutte insieme il metodo dei 40 giorni il primo metodo da prendere in considerazione è il cosiddetto metodo dei 40 giorni secondo alcune teorie neuroscientifiche e psicologiche basterebbero soli 40 giorni per consolidare una nuova abitudine nella nostra routine e per fare in modo che il cervello la apprenda costruendo una nuova rete neuronale appositamente per lei anche dal punto di vista fisico in effetti basterebbero solo 40 giorni affinché il nostro cervello possa registrare la nuova abitudine o eliminare quella vecchia che stiamo cercando di modificare le neuroscienze affermano infatti che il cervello è in grado di edificare una nuova rete neuronale più o meno in 40 giorni con le opportune differenze da fare da persona a persona il metodo dei 40 giorni consiste proprio in quello che state pensando basta ripetere la stessa cosa per 40 giorni affinché diventi un'abitudine ma quindi quanto tempo ci vuole per costruire una nuova abitudine cioè per fare in modo che un'azione passi dal dominio del cervello controllato al dominio irrazionale subconscio del cervello automatico il chirurgo plastico Maxwell Maltz fu il primo a interrogarsi su questo quesito quanto ci mette un'abitudine per diventare tale il dottor Maltz essendo un chirurgo plastico aveva a che fare tutti i giorni con persone che dovevano cambiare immagine mentale di se stessi proprio perché cambiavano proprio i connotati e la loro immagine esteriore il dottor Maltz interveniva chirurgicamente sui propri pazienti modificando loro diverse parti del corpo in special modo quelle facciali naso zigomi labbra per questo motivo iniziò a domandarsi quanto tempo ci mettessero i pazienti ad abituarsi alla loro nuova faccia la risposta che si diede è che impiegavano un tempo di 21 giorni proprio per questa ragione c'è chi dice che per costruire una nuova abitudine ci sia in realtà bisogno di 21 giorni cioè 3 settimane anziché 40 il lavoro del dottor Maltz ha influenzato molti libri di autoaiuto che sono iniziati ad andare in circolo in seguito alla sua ricerca pubblicata pubblicata a sua volta nel 1950 per questo molte persone hanno messo in giro l'idea che ci vogliono solo 21 giorni per edificare una nuova abitudine ma allora ce ne vogliono 21 o 40 in realtà non c'è una risposta univoca a questo quesito perché ciò cambia da persona a persona in base alle loro precedenti abitudini al loro stile di vita e alle loro esperienze personali in ogni caso su questo tema sono stati fatti anche degli studi scientifici e statistici più approfonditi nel corso degli anni la ricercatrice di psicologia Filippa Lally ha condotto di recente uno studio molto interessante in proposito con il dipartimento di psicologia della salute della University College di Londra la dottoressa Lally e il suo gruppo di ricercatori hanno studiato le reazioni di un gruppo di 96 persone per un periodo di 12 settimane per analizzare il modo in cui formavano le abitudini alle persone sottoposte alla ricerca è stato chiesto di trovare una nuova abitudine che avrebbero voluto sviluppare nel corso delle seguenti 12 settimane i compiti che queste persone si erano assegnate variavano dal semplice bere 2 litri di acqua al giorno fino al più impegnativo cominciare a correre 20 minuti tutti i giorni prima di cena i risultati sono stati molto diversi e variavano da persona a persona ma di media è uscito fuori che una persona ha bisogno di circa 66 giorni per creare una nuova abitudine che sia duratura nel tempo questo vuol dire che i 40 giorni sono un falso mito non proprio infatti anche se c'è bisogno di più giorni per creare una nuova abitudine quello dei 40 giorni è un lasso di tempo accettabile e facilmente perseguibile da chi abbia in testa di crearsi una nuova abitudine 66 giorni è un periodo di tempo molto alto mentre 21 giorni è molto breve fatto che fa correre il rischio di abbandonare la nuova abitudine dopo lo scadere dei 21 giorni quindi falso mito o no il metodo dei 40 giorni risulta effettivo almeno per mantenere alti i livelli di motivazione e di entusiasmo nei confronti della nuova abitudine quindi armatevi di calendario e fissate la data in cui avete deciso di iniziare a praticare la vostra nuova abitudine si consiglia di cominciare sempre con un mese nuovo oppure un lunedì questo aiuterà a mantenere alta la motivazione e a visualizzare l'inizio di un nuovo ciclo di vita mantenere la motivazione sempre a livelli costanti è di vitale importanza per la riuscita del tentativo di modificare le proprie abitudini inoltre impostare la propria intenzione come abbiamo detto è molto utile per portare corpo e mente a collaborare sinergicamente e a cercare di raggiungere insieme lo stesso risultato per spiegarlo ancora una volta in parole povere 40 giorni sono sufficienti perché la mente controllata si dimentichi di mantenere il controllo e perché invece prenda il sopravvento quella automatica che a sua volta avrà imparato la nuova azione o dimenticato la vecchia il metodo dei 40 giorni è particolarmente valido perché funziona per obiettivi piccoli realistici e facilmente visualizzabili sarà facile mantenere la motivazione perché l'obiettivo che avete deciso non è a lungo termine cioè non è per tutta la vita ma solo per 40 giorni certo si tratta di un'azione che forse in 40 giorni si trasformerà in abitudine ma la vostra attenzione sarà rivolta tutta verso il raggiungimento del quarantesimo giorno dopotutto si tratta di poco più di un mese non sembrerebbe uno sforzo estremo no? avere una scadenza reale aiuta a visualizzare quali siano i propri obiettivi e permette di perseguirli con più determinazione e caparbietà perché sembrerà di rincorrere obiettivi realistici e precisi per seguire questo metodo dovrete prendere un calendario e segnare ogni giorno la riuscita del vostro piano ci sono attualmente anche molte app per lo smartphone che aiutano a tenere traccia dei progressi e che vi rendono conto visivamente dei vostri miglioramenti è stato dimostrato che chi vuole adottare una dieta bilanciata è più motivato a farlo per un lasso di tempo ridotto come possono essere i famosi 40 giorni ciò non toglie che allo scadere del quarantesimo giorno la stessa persona sarà più propensa a mantenere una dieta bilanciata anche nel futuro perché il comportamento sarà infine interiorizzato allo stesso modo è molto difficile che una persona che abbia smesso di fumare per 40 giorni faccia l'errore di ricominciare da capo subito dopo sarebbe come vanificare tutti gli sforzi e i tentativi che ha fatto per raggiungere quel risultato allo stesso tempo questa persona si sarà resa conto dei miglioramenti che smettere di fumare ha portato alla sua vita inclusi una migliore respirazione e una maggiore disponibilità economica mentre la suefazione dalla nicotina sarà sparita completamente almeno a livello fisico già a partire dal terzo giorno dopo aver smesso di fumare pensare in piccolo quindi aiuta a impostare degli obiettivi realistici e facilmente raggiungibili che contribuiscono a mantenere la giusta dose di motivazione allo stesso tempo aiutano le abitudini a diventare tali e favoriscono la formazione di nuove reti neuronali all'interno del cervello in ogni caso non bisogna dimenticare che costruire una nuova abitudine oppure abbandonarne una vecchia non è un risultato che si ottiene da un momento all'altro né un premio che si ottiene allo scoccare di una determinata data si tratta di un percorso che non ha un inizio e una fine i 40 giorni sono solo un metodo per razionalizzare questo percorso e farlo apparire più facilmente comprensibile ma il vero cambiamento avviene strada facendo non certo allo scoccare del quarantesimo giorno tenere traccia del proprio progresso il calendario è molto utile per seguire il metodo dei 40 giorni perché permette di visualizzare su una tabella ben precisa e ordinata l'andamento dei propri progressi vedere i cambiamenti giorno dopo giorno aiuta a visualizzare l'intenzione e mantenere alte le dosi di motivazione per il raggiungimento dei propri obiettivi in realtà il calendario è uno strumento molto utile anche nel caso in cui non si volesse adottare il metodo dei 40 giorni meglio se affiancato anche dalla scrittura di un diario personale il calendario aiuta a contare i progressi a mettere in prospettiva gli errori e a ripartire con maggiore tenacia verso il raggiungimento dei risultati monitorare le nuove abitudini è un fatto molto importante almeno all'inizio fino a quando queste possono cristallizzarsi finalmente e iniziare a fare parte del cervello automatico è vero che questo deve avvenire a livello subconscio ma controllare l'andamento delle nuove abitudini è un alleato efficace per chiunque voglia apportare delle modifiche al proprio stile di vita in modo duraturo esistono diversi modi per tenere traccia del proprio progresso oltre al metodo del calendario esistono molte app studiate appositamente per tenere traccia dei propri miglioramenti nel mantenere le abitudini qualsiasi sia lo strumento che sceglierete questo poco importa l'importante è avere costanza nell'appuntare i propri miglioramenti e i propri punti di debolezza di fronte alla nuova abitudine oppure di fronte all'eliminazione di una vecchia abitudine oltre che mostrare visivamente il grafico del progresso appuntare i punti salienti del proprio percorso aiuta ancora una volta a prendere una consapevolezza maggiore dei propri progressi delle proprie abitudini e di se stessi tenere traccia dei momenti in cui si vuole cedere a una cattiva abitudine oppure si vuole mollare la presa su un'abitudine nuova mette in evidenza quali siano i lati della propria condotta sui quali bisogna ancora lavorare dai vostri appunti potrebbe emergere qualcosa che vi fa capire perché avete il bisogno di creare delle dipendenze ad esempio oppure perché avete tutte quelle difficoltà nel mettere in atto qualcosa che razionalmente sapete vi può solo far stare bene un'altra idea per monitorare l'andamento delle proprie abitudini è quella di tenere un diario anzi appuntare i propri progressi e le proprie difficoltà giorno dopo giorno aiuta a farsi un'idea consapevole di quelli che sono i passi avanti nell'adozione di una nuova abitudine e allo stesso tempo aiuta a capire quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano durante il percorso la traiettoria che si intraprende quando si tenta di introdurre delle nuove abitudini oppure di eliminare quelle vecchie dannose non è mai lineare si tratta invece di una strada tortuosa piena di ostacoli e passi indietro seguiti da altrettanti passi in avanti come abbiamo detto aiuta ad adottare un mindset di crescita ovvero un'apertura mentale che permette di apprendere dai propri errori invece che colpevolizzarsi quando si sbaglia in pratica appuntare l'andamento del proprio percorso aiuta a mettere in prospettiva i propri errori e i propri cali di motivazione questo è molto importante perché chi tende ad abbattersi molto facilmente sarà portato a voler mollare la presa già dopo il primo errore o passo indietro invece rileggere il diario può portare una consapevolezza maggiore e può far analizzare gli errori da una prospettiva diversa forse come delle piccole gocce insignificanti in mezzo a un mare di progresso e di cambiamento il diario aiuta a mantenere alta la motivazione e ricordarsi qual era l'intenzione che ci ha messi sulla strada di apprendere nuove abitudini e dimenticare quelle vecchie tenere traccia del proprio progresso incluse le giornate in cui la motivazione è bassa e viene voglia di mollare è altamente produttivo perché permette di analizzare la situazione nel suo complesso e permette di farsi un'idea generale di come sta andando inclusi i lati negativi che vengono fortemente ridimensionati e che altrimenti avrebbero soltanto portato a un pessimismo globale non solo aiuta a vedere in prospettiva le emozioni negative e riesce a far emergere i punti deboli del metodo messo in pratica per esempio se una persona sta cercando di smettere di mangiare i dolci potrà sentirsi triste e demotivato dopo essere andato a una festa dove tutti mangiavano la torta forse in questo caso non avrà saputo resistere alla tentazione oppure il fatto di non riuscire a resistere l'avrà fatto sentire frustrato e impotente davanti ai dolci avrà pensato forse che tutti gli sforzi fatti fino a quel momento erano stati vani perché ha ceduto una sola volta davanti alla tentazione magari dopo un mese in cui era riuscito a far fronte al suo fioretto di non mangiare più torte e pasticcini dal diario potrebbe emergere che frequentare situazioni di questo tipo può essere altamente controproducente quando si è nelle fasi acute di cambiamento in questo modo questa persona potrebbe ricontestualizzare la situazione e capire che in effetti un singolo errore non può inficiare un intero processo di cambiamento mandato avanti da molto più tempo in ogni caso quando si è in una fase acuta di cambiamento specie se si sta cercando di eliminare le proprie dipendenze sarebbe bene evitare i cosiddetti craving craving è un termine inglese traducibile parzialmente come desiderio o brama si tratta di un desiderio forte e inaspettato quasi incontenibile i craving sono quei momenti in cui si desidera fortemente qualcosa specie qualcosa a cui si è a sue fatti l'esempio migliore è quello della sigaretta per il tabagista che stia cercando di smettere di fumare ma anche il caffè e i dolci possono prestarsi a questa idea quando si elimina dal proprio organismo una sostanza ma può essere anche un'abitudine verso la quale siamo dipendenti il nostro corpo inizierà a mandarci segnali desiderando ardentemente quella sostanza oppure quell'abitudine a livello neuroscientifico succede che il cervello si era abituato a non produrre più delle determinate sostanze perché le assumeva da sostanze esterne per esempio potrebbe essere la nicotina ma nei casi più gravi anche le droghe le cui sostanze emulano alla perfezione dei neurotrasmettitori consentendo al cervello di prendersi una pausa chi sta cercando di smettere di assumere una droga soffre di craving perché l'organismo richiede a gran voce quelle sostanze delle quali era a sue fatto prima di iniziare il percorso di disintossicazione questo è un caso grave che ha bisogno dell'aiuto di un esperto per essere risolto nel migliore dei modi ma lo stesso meccanismo avviene ogni volta che cerchiamo di cambiare un qualsiasi tipo di abitudine anche quando questa non abbia a che fare direttamente con una sostanza che crea suefazione nei primi tempi sarà difficile resistere alla tentazione l'oggetto del desiderio potrebbe ripresentarsi come un pensiero intrusivo non voluto potremo sorprendere la nostra mente a vagare proprio verso quella direzione nei momenti più impensabili della giornata a volte gli oggetti del desiderio possono venire a trovarci anche di notte infestando i nostri sogni a chi non è mai capitato di sognare delle belle tavole imbandite di prelibatezze mentre stava cercando di rimanere a dieta avere dei craving è assolutamente normale quando si sta cercando di modificare le proprie abitudini ma naturalmente esistono molti modi per fare in modo che quella forte sensazione di desiderio svanisca e lasci spazio a una calma mentale con il tempo i craving diventano in effetti sempre meno acuti fino poi a sparire del tutto una volta che la dipendenza sarà completamente eliminata appuntare tutto sul proprio diario e rendersi conto di quando avvengono i craving e di quando ci si sente demotivati aiuta fortemente a elaborare una nuova strategia che sia vincente e che possa prendere spunto dagli errori commessi in passato bisogna ricordarsi sempre che cedere di fronte a un singolo craving non significa aver vanificato i propri sforzi ancora prima di decidere di affrontare il percorso di cambiamento tenete bene a mente che questa situazione può capitare ed è in qualche modo compresa nel processo di cambiamento questo vi aiuterà a vedere l'errore come un singolo evento all'interno di un percorso e ripartire ancora più in forma subito dopo non importa quante volte cadete nell'intento di arrivare alla fine del vostro percorso perché ciò che veramente importa è cercare di andare avanti ed essere costanti e motivati quando cambierete abitudini non ve ne sarete nemmeno accorti perché saranno diventate tali e non comporteranno più nemmeno il minimo sforzo né a livello razionale né a livello fisico la mindfulness cambiare atteggiamento nei confronti di se stessi e della vita aiuta a disfarsi con maggiore facilità delle abitudini negative e a sostituirle gradualmente con abitudini nuove e positive un atteggiamento positivo inoltre aiuta a mantenere alta l'autostima e le cariche motivazionali che portano al cambiamento delle proprie abitudini anche la mindfulness aiuta a mantenere alta la motivazione e a tenere traccia del proprio progresso adottando una prospettiva consapevole sulla nostra vita avete mai sentito parlare della mindfulness la mindfulness è una disciplina che aiuta a essere presenti con la mente ma cosa significa essere presenti spesso nella nostra vita stressante e movimentata capita di non essere bilanciati e ancorati totalmente nel presente ma di tendere sempre un po' verso il passato o un po' verso il futuro ci svegliamo e già pensiamo a cosa a cucinare per pranzo ci domandiamo se ci sarà traffico per strada e se i bambini arriveranno puntuali a scuola andiamo a dormire e i rimorsi ci invadono avrò risposto male a mia moglie oggi avrò fatto bene a fare quell'acquisto insomma sono rare le volte in cui riusciamo a stare nel momento presente perfettamente concentrati e lucidi in quello che stiamo facendo nel qui e ora la mindfulness prendendo spunto dalle discipline orientali e dalla psicologia aiuta a fissare la propria presenza nel presente nelle discipline orientali infatti il momento presente è l'unico che conta questa convinzione prende piede da una constatazione di base passato e futuro non sono modificabili quindi l'unico tempo importante per effettuare davvero dei cambiamenti è quello presente il passato è immodificabile perché è già successo il futuro non si può cambiare perché deve ancora succedere però è certo che il presente influenzerà il futuro perché le azioni di adesso avranno delle conseguenze a lunga onda anche sugli avvenimenti futuri non serve a niente quindi dimenarsi tra passato e futuro ma ciò che conta è essere vivamente e saldamente ancorati al momento presente la mindfulness aiuta molto nel rimanere presenti e combattere gli stati d'ansia e tensione è una disciplina sempre più usata dalla psicoterapia specie quella comportamentista per permettere alla persona di entrare in contatto con parti del sé con le quali ha perso la comunicazione è scientificamente provato che riallacciare i rapporti tra mente e corpo porta tutta una serie di conseguenze positive che vanno a incidere su tutto l'organismo sia a livello fisico che a livello mentale la mindfulness viene sempre più chiamata in causa anche in ambito terapeutico viene utilizzata addirittura per curare il disturbo post-traumatico da stress disturbo tristemente famoso per aver afflitto i soldati americani mandati in guerra in Vietnam negli anni 70 le persone che ne soffrono a seguito a un evento traumatico hanno flashback tic incubi e non riescono più a condurre uno stile di vita sano perché tutto è condizionato dal loro trauma la mindfulness e un aiuto psicoterapico costante effettuato da un professionista aiutano ad alleviare gli stati traumatici riportando la persona al momento presente momento nel quale può stare al sicuro ciò che succede in queste persone è che attivano i loro stati di vigilanza e allerta in continuazione per cercare di evitare di incappare nuovamente nella situazione traumatica che li ha fatti arrivare nella situazione in cui sono adesso tuttavia a lungo andare questo può essere deleterio per la persona che può vivere alti livelli di stress queste persone mantengono sempre attiva la loro ghiandola pineale la ghiandola del cervello che si occupa di gestire lo stress e gli stati di paura questo è un caso estremo ma in realtà tutte le nostre abitudini sono frutto di condizionamento esterno a meno che non ne siamo consapevoli ecco la mindfulness aiuta a tornare consapevoli fa tornare sul presente e permette di instaurare un dialogo con il nostro corpo dialogo che faciliterà il processo di impostare intenzioni nuove e di portarle avanti con costanza senza passare all'ansia di farcela domani o al rimorso di non avercela fatta ieri anche se non siamo veterani di guerra non ci fa bene domandarci costantemente cosa dobbiamo fare dopo e se abbiamo fatto bene a fare qualcosa nel passato arrovellarci su qualcosa che non possiamo in alcun modo cambiare è sicuramente deleterio per la nostra psiche oltre che un grande spreco di energia la mindfulness è molto consigliata anche per chi voglia disfarsi di alcune dipendenze anzi della dipendenza in generale questa disciplina similmente allo yoga si basa molto sulla respirazione il respiro è la prima porta di comunicazione con il mondo esterno e per questo è molto importante se si vuole rimanere ancorati nel presente ma perché è così importante rimanere ancorati nel presente rimanere presenti aiuta sia a combattere i craving sia ad avere controllo sulla nostra vita mettendo in atto la mente controllata questo è molto importante per combattere le abitudini negative e per introdurne di nuove e positive l'obiettivo della mindfulness è proprio quello di rimettere in comunicazione mente e corpo a lungo divisi da storiche convinzioni culturali specialmente in occidente dove si pensa che il corpo e la mente siano due entità separate dove la mente pensa e pianifica mentre il corpo esegue questo fa spesso pensare che la mente sia più importante più nobile in un certo senso rispetto al corpo quando in realtà non è proprio così durante tutta la nostra esistenza che noi ne siamo consapevoli o meno la nostra mente e il nostro corpo collaborano per assicurarci un comportamento funzionale non è un caso in effetti se molti disturbi della mente si somatizzano cioè si manifestano anche attraverso il corpo come ad esempio le tipiche abrasioni che appaiono sul volto di chi soffre da stress acuto oppure l'insonnia e altri disturbi del ritmo circadiano in effetti solo rimettendo in comunicazione mente e corpo si riesce a ristabilire quell'equilibrio interrotto che permette di dirigere la nostra attenzione verso dove più ci aggrada cioè a impostare un'intenzione detto così potrebbe sembrare una cosa molto astratta e difficilmente comprensibile in realtà la mindfulness si basa su semplici esercizi che sono capaci di ricollegarci al momento presente uno degli esercizi più importanti della mindfulness figlio di una tradizione secolare che viene dal mondo orientale è il training autogeno il training autogeno altro non è che una pratica che permette di allenare la respirazione e permetterci di essere presenti a noi stessi secondo diverse dottrine orientali e anche secondo la mindfulness il respiro è la prima porta di comunicazione che possediamo per interfacciarci con il mondo esterno quando ci sentiamo fuori asse cioè quando ci sembra di protendere verso il passato o verso il futuro più del necessario con le eventuali sensazioni spiacevoli di ansia o nostalgia negativa che ne derivano il respiro viene in nostro soccorso e ci aiuta a rimanere presenti il bello del training autogeno è che si tratta di una pratica che abbiamo sempre a portata di mano perché si basa su un qualcosa che facciamo continuamente per sopravvivere cioè respirare si basa su pochi e semplici assunti si cercherà di svuotare la mente senza focalizzarsi troppo sui pensieri che insorgono ma guardandoli scorrere per poi concentrarsi nuovamente sul respiro importante è lasciar perdere il senso di colpa o il senso del dovere anche se siamo abituati sempre a pensare alle cose in base a quanto sono funzionali durante questa pratica dovremo dimenticarci di tutto quello che sappiamo e che abbiamo appreso per concentrarci solamente e totalmente sul flusso del nostro respiro se vi capiterà di pensare ad altro tornate semplicemente a concentrarvi sul vostro respiro passiamo adesso al pratico cioè a un piccolo esercizio che vi permetterà di capire in poco tempo in cosa consiste la mindfulness e il training autogeno un semplice esercizio che potrete sperimentare anche adesso mentre ascoltate queste parole è quello di chiudere gli occhi e seguire il ritmo del vostro respiro inspirate ed espirate lasciate che l'inspirazione allarghi gradualmente prima la vostra pancia e poi inizia a risalire lungo il vostro torace per poi allargare anche il vostro petto la stessa cosa quando espirate lasciate che l'aria fuoriesca prima dal petto e poi man mano a scendere fino a espellere anche quella della pancia immaginate che il vostro corpo sia come una bottiglia capace di immagazzinare l'aria alla base e versarla dall'apertura in alto ripetete l'esercizio un paio di volte spesso durante la nostra vita frenetica di tutti i giorni ci dimentichiamo di dare la giusta importanza al respiro il fatto che faccia parte della mente automatica ci permette di svolgere le azioni quotidiane più semplici e quelle più complesse senza prestarvi in effetti la minima attenzione concentrarsi sulla propria respirazione ha molti aspetti positivi permette di rimanere ancorati al presente favorisce l'ossigenazione dei tessuti dona un senso di calma e allontana i pensieri negativi non smettete di respirare adesso seguendo la mia voce cercate di concentrarvi solamente sull'inspirazione e sull'espirazione se dei pensieri o delle immagini si affacciano alla vostra mente osservateli mentre sfilano davanti ai vostri occhi senza giudizio non soffermatevi sui vostri pensieri non date loro retta limitatevi a osservarli mentre continuate a respirare non cercate di scacciare i vostri pensieri questo sarebbe controproducente osservateli semplicemente senza frapporre tra voi e loro nessun tipo di giudizio osservateli mentre man mano che continuate a respirare defilano magari lasciando spazio a nuovi pensieri nuove immagini consapevolmente senza nessun tipo di senso di colpa se vi accorgete che questo sta succedendo tornate dolcemente a concentrarvi sul ritmo del vostro respiro adesso aprite gli occhi e notate come vi sentite probabilmente sentirete il vostro cervello svuotato il corpo più leggero vi sentirete più rilassati e meno preoccupati avete appena completato una semplice pratica di meditazione meditare tutti i giorni ha degli effettivi risultati positivi nel complesso dell'organismo e permette di mettere in comunicazione la mente con il corpo potete provare a meditare ogni volta che siete avvinti da un craving nel caso in cui vogliate cercare di smettere con una cattiva abitudine invece la meditazione viene in soccorso anche quando ci si sente demotivati infatti permette di analizzare più razionalmente le situazioni senza il filtro delle emozioni negative che spesso si frappongono tra di noi e il mondo esterno in generale meditare apporta delle migliorie complessive che a lungo andare permettono di lasciare da parte le dipendenze di qualsiasi tipo esse siano e di ritornare a concentrarsi sul momento presente con una maggiore consapevolezza in poche parole si potrebbe dire che la meditazione aiuta a far comunicare non solo mente e corpo ma anche mente automatica e mente controllata permettendo un maggiore controllo su di esse e sul meccanismo che permette di passare da una all'altra la meditazione aiuta a farci dimenticare le cose che abbiamo appreso e quindi anche le cose che abbiamo appreso attraverso il corpo un altro semplice esercizio da provare è quello della mela sedetevi in una posizione semplice e comoda portando con voi una mela osservate la mela guardate il suo colore che può essere rosso giallo o tendente al verde con le mani cominciate a tastarne la consistenza potrebbe essere dura o molle inoltre potrete notare che il pigmento della mela non è lineare e anzi cambia colore quando è più vicino o più lontano dalla fonte luminosa potrete sorprendervi della lucentezza della buccia oppure del fatto che è estremamente liscia al contrario potrete notare alcune imperfezioni forse dei buchi o delle parti non perfettamente levigate del frutto adesso potete cominciare a portare la mela più vicina al vostro viso anche a pochi centimetri potrete cominciare a sentirne l'odore dolce e forse con note un po' asprigne annusatelo portatelo all'orecchio per vedere se emette dei suoni adesso quando siete pronti addentate la mela molto lentamente che rumore fa forse è molto fragrante forse meno di quanto vi aspettavate che sapore ha è un sapore familiare è dolce o ancora troppo acerba ecco questo esercizio dimostra come anche il semplice gesto di mangiare una mela può diventare un atto di consapevolezza se effettuato attraverso la pratica della mindfulness infatti un'azione che averete compiuto migliaia di volte durante la vostra vita adesso vi è apparsa come se fosse stata la prima volta forse vi siete accorti con più sorpresa della bellezza del frutto del suo sapore e del suo odore forse è stata addirittura la prima volta che vi siete soffermati a guardare per così tanto tempo le piccole linee pigmentate che colorano il frutto questo vuol dire che anche le azioni più banali possono essere osservate da una luce diversa praticando la consapevolezza un gesto abituale si trasforma così in qualcosa di straordinario di unico e irripetibile qualcosa per parlare con termini che ci sono ormai noti che non è più appannaggio della mente automatica ma di quella controllata c'è ancora un altro semplice esercizio che la mindfulness insegna e che può tornare molto utile nel caso si dovesse affacciare un craving inaspettato si tratta di un esercizio di emergenza una pratica molto rapida da effettuare proprio nella fase acuta del craving questo esercizio si compone di due parti la prima è di tipo isometrico cioè permette di tornare presenti nel proprio corpo ancorandosi alle sensazioni corporali la seconda parte è invece di tipo visivo e per effettuarla avrete bisogno di uno specchio nel quale potrete guardarvi cominciamo con la prima parte dell'esercizio come al solito sedetevi con la schiena ben dritta e chiudete gli occhi cominciando a respirare quando siete pronti portate le mani e unitele ad altezza del petto come in un gesto di preghiera adesso cominciate a premerle una contro l'altra e concentratevi sul vostro respiro lasciando scorrere tutti i pensieri intrusivi sentite il calore delle mani una sull'altra sono morbide o dure sono fredde o calde sudate o asciutte adesso portate le mani sulle cosce premete invece le piante dei piedi sul pavimento cercando di mantenerli a equa a distanza dal busto che sensazione provate il pavimento è freddo o caldo i piedi sono pesanti o leggeri questo esercizio dovrebbe avervi aiutati ad ancorarvi al presente e a distrarre la mente dal craving se non è bastato passiamo alla seconda parte dell'esercizio per la quale vi servirà a mettervi in piedi di fronte a uno specchio va bene anche lo specchio di casa o la fotocamera frontale del vostro telefonino osservatevi attentamente passando in rassegna ogni parte del vostro volto osservate gli occhi poi il naso poi la bocca e infine le orecchie il mento e la pelle del vostro volto inspirate ed espirando immaginate di ripulirvi di quel desiderio improvviso che vi è appena venuto in mente magari aprite lo sguardo e la bocca in un sorriso luminoso immaginatevi ripuliti positivi e pieni di energia se non è bastato neanche questo immaginatevi così come siete davanti allo specchio a svolgere quell'abitudine che state cercando di eliminare se state cercando di smettere di fumare immaginatevi con una sigaretta tra le labbra se state cercando di evitare le abbuffate compulsive immaginatevi mentre portate alla bocca una quantità enorme di cibo spazzatura che effetto vi fa adesso fermatevi un attimo senza smettere di guardarvi allo specchio che benefici avete notato da quando avete smesso di mettere in pratica la vostra abitudine negativa potete già vederli riflessi nel vostro fisico quali sono invece i benefici dal punto di vista mentale ora che avete risposto a queste domande potreste chiedervi quale sia il prezzo più alto da pagare rinunciare alla vostra abitudine negativa per ancora qualche giorno o settimana oppure continuare a pagarne le conseguenze amare che ne derivano potete ancora tenere duro per un po se anche questo esercizio non ha funzionato provate a distrarvi letteralmente provate ad andare a fare una passeggiata a risolvere un gioco di parole crociate oppure a leggere o guardare un film quest'ultimo esercizio non è particolarmente indicato perché offre dei palliativi invece che delle vere proprie soluzioni ma spesso nella fase acuta del desiderio può aiutare all'incombere di ricadute inaspettate sperimentate questi esercizi e giudicate quale di questi può fare al caso vostro gli esercizi per i craving possono tornare utili se state cercando di smettere con un'abitudine negativa mentre vi consigliamo caldamente di provare a meditare tutti i giorni per trovare un nuovo contatto con voi stessi e far collaborare mente e corpo questo vi aiuterà a mettere da parte le vostre abitudini negative a costruire nuove abitudini più positive e in generale ad acquisire una nuova prospettiva nei confronti della vita e una nuova consapevolezza nei confronti di voi stessi le buone abitudini arrivano tutte insieme parlando della mindfulness abbiamo visto che spesso sono i cambiamenti complessivi a influenzare il modo in cui conduciamo le nostre azioni moltissime volte infatti le abitudini non si modificano quando ci concentriamo su ciascuna di loro cercando di modificare a uno a uno i nostri atteggiamenti ma quando cerchiamo di modificare le nostre convinzioni e il nostro atteggiamento complessivo nei confronti della vita in particolare è la consapevolezza di se stessi degli altri e del mondo che ci circonda che ci aiuta propendere per scelte più sane e abitudini che siano adatte a noi stessi e ci consentano di adottare uno stile di vita sano e bilanciato spesso una maggiore consapevolezza si traduce in un atteggiamento più positivo in generale nei confronti della vita e nei confronti di noi stessi questo atteggiamento positivo nella maggior parte dei casi si trasforma a sua volta in una perdita delle dipendenze è come se le dipendenze non fossero più necessarie sia per la nostra mente che per il nostro corpo e con dipendenze non intendiamo soltanto la sue fazione da sostanze ma anche la dipendenza nel voler compiere sempre la stessa azione negativa in effetti se ci si ricorda quello che abbiamo detto in merito alle dipendenze queste si formano quando l'individuo cerca al di fuori di sé qualcosa per stare bene o meglio per trovare un senso di sicurezza trovare la consapevolezza di sé attraverso diverse pratiche come la meditazione oppure tenere un diario permette di trovare i propri confini rispetto al mondo esterno ogni persona infatti si definisce in contrasto con il mondo che la circonda quindi conoscere se stessi significa anche capire profondamente la propria diversità dal mondo esterno conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità significa riuscire a trovare dentro di sé il senso di sicurezza di cui si ha bisogno senza doverlo cercare nel mondo esterno per questo motivo le dipendenze vengono a cadere di mano perché non saranno più necessarie per la sopravvivenza dell'individuo per la sua esistenza come unico come essere irripetibile e speciale in breve l'individuo basterà a se stesso sarà indipendente e autonomo senza appunto dipendere da qualcosa oppure da qualcuno da ciò ne avrà aggiovamento anche la vita relazionale non solo dal punto di vista coniugale o romantico ma cambierà proprio l'atteggiamento con cui vi interfaccerete con il prossimo allo stesso tempo anche nel caso in cui le vostre abitudini negative non siano delle dipendenze ma tutte le abitudini negative lo sono dopo tutto sappiate che praticare la meditazione e la consapevolezza apporta dei micro cambiamenti che poi portano lentamente alla modifica quasi spontanea delle vostre abitudini il pensiero positivo e le abitudini sono infatti strettamente collegati non solo ma si influenzano vicendevolmente tanto che risulta difficile comprendere dove finisce uno e inizia l'altro è vero che adottare il pensiero positivo permette di adottare uno stile di vita che porta alla perdita delle abitudini negativi e all'adozione di abitudini positive allo stesso tempo adottare delle abitudini positive può portare all'adozione di un pensiero positivo quindi percorrendo la strada inversa tutto parte dal discorso interiore se una persona si rivolge a se stessa come a una persona cara a una persona la quale vuole bene sarà portata adottare delle abitudini positive se invece ci si rivolge a se stessi come a un bambino oppure un nemico si adotteranno delle abitudini negative modificare la propria attitudine il proprio mindset permette di adottare una strategia di vita diversa da quella che eravamo abituati a seguire quindi permette di modificare anche le nostre abitudini attraverso piccole modifiche nel nostro modo di fare che vanno ad agire a livello complessivo su tutti gli aspetti della nostra vita quindi ripartite da voi stessi se volete modificare le vostre abitudini è bene capire quali siano le vostre abitudini negative in che modo si siano formate e perché continuate a rimetterle in pratica come un rituale nonostante vi siate resi conto a livello razionale di tutte le conseguenze negative che implicano è bene cercare di cambiare le proprie abitudini e modificare il proprio atteggiamento ma tutto questo è lavoro totalmente inutile se ci si pone con un atteggiamento negativo verso se stessi infatti anche se si riuscirà a modificare un'abitudine negativa molto presto se ne formerà un'altra altrettanto dannosa questo accade perché l'abitudine sarà modificata solo in apparenza senza agire nel profondo dell'individuo senza andare a toccare quelle corde profonde che tutto sommato ne hanno permesso la costruzione se non vengono toccate queste corde profonde sarà molto difficile destrutturare l'abitudine e poi eliminarla una persona che ha l'abitudine di mangiare molto ad esempio non può concentrarsi solo su questo elemento per cambiare l'abitudine potrebbe cercare di mangiare meno ma quanto durerebbe questo cambiamento quanto andrebbe a incidere sull'andamento generale della vita di questa persona sarebbe come concentrarsi sul sintomo invece che sulla malattia spesso chi mangia molto lo fa per compensare un certo tipo di insicurezza e tenderà a mangiare quando si sente poco a suo agio o triste anche se questa persona a forza di costrizioni riuscirà a modificare la propria abitudine di mangiare molto probabilmente instaurerà un nuovo comportamento o abitudini negativi che vanno a compensare il proprio senso di insicurezza se una persona che beve molto alcol ha cominciato a farlo perché non vuole pensare a un problema che lo affligge non servirà a niente il suo smettere di punto in bianco di bere alcol il problema che lo affligge rimarrà sempre lì seminascosto dalla coltre dei suoi pensieri e la sua riemersione periodica lo porterà a cercare altre vie d'uscita per il suo problema spesso attraverso il gioco d'azzardo il fumo o peggio ancora l'uso di droghe se invece penserà prima a stare bene con se stesso a risolvere il proprio problema oppure a conviverci questa persona non avrà il bisogno di cercare al di fuori di sé la soluzione a un problema che è dentro di sé basterà a se stesso e non gli sarà più necessario cercare altrove un palliativo per il suo dolore non avrà più bisogno di dipendenze e così come smetterà di bere probabilmente smetterà anche di fumare e non avrà più bisogno di tutta quella serie di azioni negative che ha messo in scena per sopperire al proprio problema e che spesso fanno il gioco contrario alimentando il suo senso di impotenza e di insicurezza ecco che le abitudini positive arrivano tutte insieme e le abitudini negative se ne vanno via quasi tutte insieme perché dopo tutto si tratta di un atteggiamento verso le abitudini e non di azioni singole è l'atteggiamento che alla fin fine fa la differenza conclusioni siamo giunti alla fine di questo compendio di riflessioni e di spunti per aiutarvi a modificare le vostre abitudini e i vostri comportamenti automatici cambiare le proprie abitudini non è sicuramente qualcosa di semplice è più un percorso che avviene giorno dopo giorno grazie a costanza e impegno è più simile a una strada tortuosa che ha un interruttore che si accende e si spegne a comando non si cambiano le proprie abitudini un attimo dopo averlo deciso ma dopo aver sbagliato tante volte ed essere ritornati sui propri passi abbiamo proposto dei metodi per cambiare le proprie abitudini ma sicuramente questi non sono delle formule magiche sono aiuti consigli ma la verità è che non esiste un modo univoco per cambiare le proprie abitudini ciascuno di noi è diverso e quindi sono diverse anche le strategie che bisogna adottare per far fronte al cambiamento e alla modifica delle proprie abitudini è bene seguire dei consigli e prendere spunto ma solo la consapevolezza può portare a capire qual è il metodo più adatto a voi questo dipende da molte cose come la vostra età dalla durata della vostra abitudine nel tempo dal vostro livello di autostima e la vostra motivazione tuttavia sulla vostra motivazione e la vostra autostima potete lavorarci su sono elementi che vivono sotto il vostro controllo a differenza della vostra età o altri fattori ambientali per questo è bene intraprendere insieme alla decisione di cambiare le proprie abitudini anche un percorso per cambiare proprio il modo in cui guardare alla vita all'ambiente che vi circonda e anche a voi stessi per cambiare le vostre abitudini dovete cominciare da voi stessi e più precisamente dal modo in cui guardate al mondo ma anche dal modo in cui parlate con voi stessi dalle parole che usate coltivate l'amore per voi stessi e vedrete che le abitudini negative vi cadranno di mano perché inutili perché non più necessarie come frutti su un albero primaverile in pieno rigoglio nuove abitudini si andranno formando consentendovi di sostituirle a quelle più vecchie e intraprendere uno stile di vita più bilanciato e più sano non cedete di fronte agli intoppi di percorso e continuate imperterriti sulla strada che avete inaugurato il giorno in cui avete deciso di cambiare le vostre abitudini commettere un errore non significa che non siate sulla strada giusta il sentiero va visto in prospettiva degli obiettivi che vi siete prefissati e quando penserete di non farcela guardate indietro e ricordatevi come eravate quando avete cominciato sicuramente anche se non siete arrivati alla meta siete molto migliorati cosa sarebbe cambiato invece se non vi foste proprio messi in moto sulla strada del cambiamento assolutamente niente allora tanto vale continuare imperterriti per la vostra strada e vedere dove vi porterà perché quando si decide di cambiare il primo passo è già stato fatto perché tornare indietro proprio adesso quando dall'altro capo della strada sono già ad attendervi miglioramenti sempre più propizi caro ascoltatore ti ringraziamo di aver ascoltato l'audiolibro Il potere delle abitudini come funzionano e come cambiarle di Stefano Galli dall'ABP editore se il libro ti è piaciuto ti preghiamo di lasciare la tua recensione su audible.it la tua opinione è molto importante per noi perché ci aiuta a migliorare la qualità dei nostri audiolibri puoi scaricare altri libri della nostra casa editrice per esempio La forza dell'abitudine di Lorenzo Albertieri e Piccole abitudini per grandi cambiamenti di James Clear grazie per l'ascolto non dimenticare di mettere il like e iscriverti al canale grazie per l'ascolto